Va bene, stop alle musiche e andiamo sul Pandora S&P Allora, siamo oltretutto anche con Bertra come sempre Ok, eccoci qua, eccoci qua, perfetto Siamo dentro, ci siamo, andiamoci a sedere e via Ok, S&P per cosa sta? Sta per server multiplayer Ok, c'è anche il commerciante qua Va bene ragazzi, quindi io adesso vado in là e vado su Discord con Bertra Leggerò un po' meno la chat, come al solito Voi scrivete, parlate tra di voi Eh no, eh no, è un attimo, eh che cazzo E niente, abbonatevi gratis con Amazon Prime Pagano 4.99 Grazie Toby Plank, bentornato Roar a te, grazie mille, bentornato Vai andiamo su Discord con il Bertra Ecco, quindi anche se leggerò un po' meno la chat, ragazzi ricordatevi che siete sempre del mio cuore Andiamo Cazzo, quello grosso Eh? Il Bert, ciao! Oh, il Bert Fieric, come il Bert va Eccoci, tutto bene Bert, tutto bene Vado a dormire intanto che qua Scusa se ti ho scoperto Eh, l'ho sentito, l'ho sentito Sei il Robin Hood di Twitch Mi hanno toccato il pipì Male! Molto male No, no, mi è piaciuto Cosa sono queste chest? Ho profittato dei vostri mercanti, lascio questo per il disturbo Qualcuno ce l'ha creato due diamanti Vai jump it Ah ok, jump it Ah ok Abbiamo dei mercanti? Ah dice i nostri villager Sì, sì, penso i villager Cioè, ci sono anche i lama del mercante qua sotto, però Haha, lama donna Cara famiglia Benettono, si ha dato il mio debito Ho lasciato oltre i 24 diamanti e anche un regalino extra È la madonna Oh, cos'è? Raccontaci, raccontaci Siamo pieni di... Aspetta, voglio intanto raccogliere i lacci qua Ah, se c'era un mercante è morto, perché non c'è Ci sono i lama, ma non c'è il bercante Il bercante, il bertcante Il bertcante, non c'è Ah yes, il famoso bertcante Vabbè, ammazzo il lama Il signor amemeraldo Intanto ammazzi il lama e te lo dico Guarda, il suo comportamento è veramente irresponsabile e immaduro È degno della famiglia Benetton Esatto Ok Quindi Io sto facendo ancora materiali che ci serviranno per completare il progetto magno Chissà se l'extra erano in cartelli Sembra un ottimo regalo Allora, vediamo un po' Questi sono dei 50 caratteri Ma qua ci sono due diamanti che sono quelli di Jumpitech Ok, fin qui ci siamo E poi ci sono dei diamanti sparsi negli item frame per caso Ma che cazzo è una caccia al tesoro questa? Beh, Leo aveva lasciato il suo avvertimento al signor Emerald Vero Nel caso qualcosa non andasse bene Possiamo sempre reiterare, diciamo Ok Non dimmi che ci ha fatto 24 item frame, ragazzi Credo che sia regalo Allora Dimmi che non sono veramente 24 item frame che commetto il Sudoku Non lo so onestamente Adesso sto Cioè, c'erano due item frame Però non lo so Poi torna alla stazione Forse li ha presi Leo i diamanti Non lo so No Oddio Mi sa che sono 24 item frame Ma porco due Sono ai time frame con i diamanti ovunque No Cazzo è una caccia al tesoro questa Che bella extra di merda che ci ha fatto Mi sa che è la vendetta per la casa fatta di netherrack, sai? Può essere Potrebbe essere, diciamo Mamma mia Ho perso il conto, ragazzi Ma quanti ce ne sono? Non li ha messi... Mamma mia Fammi dire se li ha nascosti da qualche parte Che toxic player, mamma mia Proprio toxic player Sa se ce ne sono nell'acquario No, non possono stare in acqua Le item frame Che io sappia Ci ha messo una porta davanti Nell'orto, sì Ce n'era uno, ne ho visto Ah, uno sulle angurie Ah, fantastico Perfetto Ma Sei proprio dato da fare il signorino, vedo È abbastanza Poi c'è un'altra qua È un fine umorista Eh, ma Di youtuber sono così C'è una nuova notifica Siamo una Una razza a parte Niente Oggi ho scoperto Che ti ho rubato Un format Fieric Lo sapevi? Non mi dire che è quello Delle reaction Eh, sì A quanto pare Non posso fare le reaction Fieric L'hai fatta tu ormai su youtube Io stavo aspettando di sapere Quando sarebbe arrivata a dirtelo Meno male Beh dai Il primo video è andato a secca Non c'è niente da fare E mi dispiace Bertra, puoi smettere di Puoi smettere di copiarmi? Bertra, per favore No, mi dispiace Purtroppo mi tocca Evidentemente non sai come fare i views In altri modi E vieni a rubarmi il format Eh, lo so Eh, scusa Non volevo davvero È che i miei figli devono mangiare Ah, sì, capisco Eh, guarda Solo per questo C'è incredibile ragazzi Bertra, è incredibile Eh, lo so Cioè, pensa te Uno sta lì Mesi, settimane Crea il format delle reaction su youtube E uno gliele fotte Ma ti pare? Mamma mia Cristo Dio Andiamo dove cazzo sono state Comunque ci ha messo veramente 24 item frame Buona fortuna Io sto Io sono al Potevo quasi quasi lasciarli Erano anche carini Gli avesse messi per ordinati Invece no Sono tutti a cazzo Ma io Allora, io ne ho 21 adesso Due randyjumpy Quindi ne mancano Cinque Un po' Ah, già Niente, saranno qua Ho una quantità sbagliata di Di granito Mamma mia Niente, sto un attimo cercando Altri Tranquillo Tranquillo Ma anche secondo me Ce ne sono negli acquari Allora, direi che qua Non li ha proprio Non li ha proprio messi Qua Sembra proprio che non Siano stati toccati Quindi Ne stanno Nell'acquario Che cazzo Poi la caccia al tesoro Mi tocca fare Io che volevo costruire l'autostrada Vieni con me Nell'acquario di Cattolica Vuoi venire con me Nell'acquario di Cattolica? Io sono anche abbastanza vicino All'acquario Un attimo Che sto fia Me li avrà messi sul tetto Quanto stai soffrendo È una bella sofferenza Effettivamente Ma allora Convenite con me Che gli item frame Non possono essere piazzati In acqua Sì invece Oh cazzo Questo è un bel problema Possono essere piazzati in acqua Molto bene Un divertimento Si diverta nell'acquario Mi raccomando Non affoghi Ci proverò Ma quanto sarà divertente Quando Ci sarà la permadeath E io continuerò a morire Cadendo Come ho fatto finora Non lo so Ma io non Non ho ancora capito bene Lo scopo Di questo server Fare le autostrade Non era quello No perché Io ho capito quello Non ho capito Cosa giungerebbe Di divertente La permadeath Un po' di lore Ah la lore Ok Davanti all'orto Scusa Siamo sul canale Di Sabaku Scusa Non ho capito Ah è vero La lore Ma ho detto Davanti all'orto Ma davanti all'orto Non vedo assolutamente niente Lei è proprio uno sciocchino Se lo faccio a dire Scusa A me me li ha piazzati Sugli alberi anche Nelle ceste Nelle ceste No 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 Figurati Non sono la persona Più furba del globo Nella lanterna Ah Die Ah No ma questo è uno smeraldo Ma che cazzo è Vabbè Non sapremo mai Signore Enderman La prossima volta Che mi fa cagare in mano così Veramente la denunzio io Niente In teoria ce ne sono altri In pratica Non so quanta voglia Ho ancora ricercarli Ma cosa ci serve Lo smeraldo Noi abbiamo andato I diamanti Ci ha dato uno smeraldo Anche Ah forse era l'extra Eh si Era il regalino Ecco è ovvio Che era nell'acquario Io ero convinto Che non si potesse Piazzare in acqua Invece si La phantom membrane Ci serve No perché io ho Scannato i phantom Si 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 Prendila Prendila Per l'elitra Ma Quando arriveremo Serve a fare le pozioni Non di levitazione Quelli di slow falling Se proprio Ah Ok Sono a 24 Ma due erano di jumpy Quindi ne mancano due ancora Ah già Signore Enderman Venga qua E si faccia toccare sensualmente Dalla mia persona Grazie Non ho più voglia di cercarli Se vuole Ne cerca qualcun altro No no Io sto Sto a una favola Tanto Siamo pieni di diamanti No infatti Abbiamo anche i picconi Con fortuna Tutto 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 Esatto Io sto mettendo Un po' di Di muretti Che vedo che qua C'era un deficit Di muretti Vero Un deficiente Di muretti Ah qua c'è No Ah ma questo qua È il nostro Ragazzi Non è quello di Hai trovato il nostro Item frame Incredibile Con il diamante Sì Perché tutti C'è quello Nelle ceste Nelle cesti Ragazzi Quello è il nostro Incredibile Ecco qua In questa roba Dell'autostrada È sfuggita Troppo di mano Secondo me Perché dici Boh non so Sta diventando Un progetto Pan Pan europeo A parte che lo facciamo Solo noi Però vabbè Nel senso Vabbè ma Alla fine così funzionano Le autostrade Che io sappia No Che butti giù I palazzi Degli altri Beh sì Ah sì 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 Funziona Assolutamente così Quello è poco Ma sicuro Alla fine È forse colpa nostra Se sono un po' Arretrati Questi villici No 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 Colpa loro Noi portiamo il progresso Assolutamente Il progresso Richiede sacrificio Concordo Sacrificio dei primogeniti Quindi appena avranno Dei figli Esatto Molto male Grazie Tommaso Per il prime Nuke Per il prime Eco Per il prime Gianni Otto mesi Quanta bella L'autostrada Anche a Napoli Anche in carcere Grazie mille a tutti Il supporto Non linciatemi Ok sto arrivando Con tutte le rotaie Così da continuare Il progetto Ah tu metti le rotaie Bravo bravo Beh sì Una bella idea no Sì 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 Io sto Facendo il tratto Nel bosco Un po' meglio Cioè sto Finendo di mettere Le cose Tu hai preso Delle rotaie Per caso Con te No Mai prese Allora siamo messi Un po' male No è impossibile Secondo me Ah perché ho staccato Con Leo Sono nelle fornace Ok I metalli Abbiamo preso Abbiamo preso Un sacco di roba Io e Leo L'altra volta Dopo che hai staccato Bene bene E poi ragazzi C'è una playstation Ecco Guarda E caduto tutto Molto bene La madonna Quanta pietra Che ha fatto Leo Che casino Messo a cucinare Di tutto Qua dove sono io Ho preso Tipo Un tot Di stack Di Di granito E di orite Ma tanta proprio Quindi Ottimo Ottimo Mi sembra Un'ottima idea Uh ce l'ho fatta Da questo lato Vediamo dall'altro Ok Signor Bertra Allora Faccio un altro po' di Dobbiamo fare Lo stream squad Presto Moderatori Lavorate Lavorate Moderatori Per cosa vi paghiamo Ok Quello che mi chiedo io Tutte le volte Ok Comunque ad oro Si è messo Abbastanza male Sai Beh loro Ti ricordo che Avevamo fatto Quella spedizione Un po' Un po' Frizzicarella Noi due Abbiamo tirato Tutto in faccia Ai piglin È vero Allora Dobbiamo assolutamente Poi tornare Tornare Via Ah è davanti La vostra stanza Di stivali Ah non era il nostro Vabbè sti cazzo Lasciamo lì Ragazzi abbiamo 150 diamanti Direi che ci bastano Per un po' O no Berta Che cosa I nostri 150 diamanti Creeper di merda Tua madre Zoccola Scusa No no Capisco Capisco Mi ha Mi ha Profondamente Ferito Distruggendo parte Della mia Cazzo di ferrovia Sto creeper Tranquillo Adesso arrivo Creeper di merda Allora Ok Signore Dorniamo Non posso Sono in culandia Io Ah Luxelino Grazie mille Dei 21 mesi Speedforce Grazie mille Grazie ragazzi Siamo in tre Vedo che è molto Partecipato il server E oggi parlavano di lore Beh La facciamo noi la lore Esatto Noi non seguiamo la moda Noi facciamo la moda Esatto Mi tocco Ah yes M vi ha rubato l'oro Ma porco demonio Infame Inculato Un altro Bertra ma Calmiamoci Ti sento Ma è un bosco di creeper Questo Ma dio Capita Adesso arrivo Ecco qua Sto arrivando Bertra Sto arrivando No mi si è scassato Umuret Maronna Anima vi ha rubato Il cavallo scheletro Ma non l'abbiamo mai avuto Ma era di nuovo Il cavallo scheletro Boys Ah Aveva i due cavalli E scheletuo Emerald ci ha rubato l'oro Con tutti i chemi Ci ha rubato l'oro Proprio quello che ci serve Per le rotaie Questo potrebbe essere Un bel problema Per lui ovviamente Lorewise Non lo sappiamo In realtà Allora a me sarebbe piaciuto Ma perché non abbelliamo Ste cazzo di stazioni Che abbiamo Anziché Allungare Quali stazione Eh se Se vieni qua Te le faccio vedere Torno indietro Le faccio vedere Dimmi dove sei Cioè indietro Sono al primo tunnel È spawnato un creeper Proprio sulla ferrovia Aspetta che faccio Un omicidio plurimo Venga qui e le mostro Gentile signore Uh cosa mi vuole mostrare Mariuolo Che non è altro Vieni 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 Ma sei all'inizio Sì all'inizio Il primo tunnel Quello sotto casa Di Eme Allora tiro dritto Che oh porca Ma ce l'hai col te Il carrellino Eh sì ma non posso Tornare indietro Perché non arriva Fino a lì Eh Allora sbrigati Sto accettando La richiesta Di stream squav Oh bravi Moderatori Che lavorano Qui sono i moderatori Che piacciono a me Quelli nudi No aspetta Allora Stiamo arriviamo Signor ragno Ungulo Oggi sono un pozzo Di simpatia Come sempre Esattamente Boing 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 Ah questa è casa Di Eimarin Beh dai È venuta carina Casa Eimarin Alla fin dei conti Ok No Cos'è accaduto Ho allagato tutto Di nuovo No di nuovo Eh ma io Non ce la faccio Lavorare qua sotto C'è impossibile Ovunque rompo C'è la sabbia Che va giù Ovunque rompo C'è la sabbia Che vola giù Lei è un mariolo Se lo faccio a dire Abbiamo Letteralmente Come in Italia Guardi abbiamo scelto Il punto peggiore Per costruire Almeno siamo coerenti Beh dai Allora Un attimo Che qua Uno due Ma no È scoppiato tutto Eh lo so Dura 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 D'accettare Ecco Eh Ma che cazzo Non funziona molto La tua fermata Devo dire È un attimo Non sai come funziona Evidentemente Primo bottone Si accende il power trail Però a quanto pare No Premi W Magari Per andare avanti Ecco Ok Bravissimo Fenomenale Ciao Me ne sto andando Oh no Ok Bertra Ti dicevo Ti volevo far vedere Il progetto Aspetta che arrivo Così per sistemarlo Magari in due Ce la possiamo fare Sei molto speranzoso Vediamo un po' Cosa intende fare Dottove Ok Qui Qui mi dovrei Farmare da solo Si Fenomenale E per ripartire Basta appiggiare Pulsante E prendere W Ecco Io vorrei fare tutto Con questi bellissimi Mattoni di pietra È molto bello C'è guarda Molto carino Molto Scenico Il problema È che Sopra C'è la sabbia E appena rompo Vola giù E allaga tutto Come facciamo Siamo a 300 Soffriamo No Bertra Dobbiamo trovare Una soluzione Una soluzione pratica A questo problema Non so se esiste Questo è il vero Tu dovresti andare sopra E trovare il modo Di togliere la sabbia Eh sì Porco boia Ci accontentiamo Di poco Mi sembra L'unico modo Onestamente Vediamo che si può fare Allora Altre lama È pieno di lama Qua in giro Ne ho appena ammazzati due Vedi guarda Dritto di qua Qua si vede Ecco qua si vede La costruzione Con i mattoni di pietra E qua si vede Dove ho rotto Qua chiaramente Ecco Tutta sta sabbia qua Quindi ovunque romperò Ci sarà la sabbia Questo è il problema principale Eh già O leviamo veramente Tutta la sabbia Eh mi sa che è l'unica Eh ma il punto è che poi Togliendo il Eh ma se ne togliere Eh ma se c'è il blocco d'app qua Posso rimettere subito il blocco Nooo Eh ma sei un Ovviamente se devo schifare I poveri abbonandomi Sei un L'ho fatto per sbaglio Sei un Sei veramente un Fatelo dire Vabbè ma tanto ormai Ho capito che lo farò 50 volte Questo processo For chess Tu sei un chess For chess Ah 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 E niente Pure il pulsante È volato giù Qualsiasi cosa È volata giù Agra 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 Che è veramente il peggior Benetton di tutti Fatelo dire Con queste rotaie qua Posso non affogare? Grazie Io gli faccio finta Che sia un fondale vero Marittimo Molto scenico Veramente fantastico Palle belle sode Palle sode Però se i tuoi mod Non fanno partire La stream squad Anche se ho accettato I miei mod Non fanno partire La stream squad Li licenzio Li licenzio eh Tutti nelle miniere Tutti nelle miniere della Tvast Ecco Chissà cosa si scava Nelle miniere della Tvast RGB RGB Giustissimo Famiglia Benetton Cock Rating Esatto raga A 800 sub La famiglia Benetton Farà il rating Del vostro pene Mi sembra un'ottima idea Dove ce li facciamo mandare Mandateli in mod in privato Esatto No poveri mod Così imparano No che ho un sacco di mod nonne Che poi mi bandano Per Il sesso Che non piace a nessuno Il sesso non piace a nessuno Boh il sesso è palesemente sopravvalutato Ah che fatica Comunque c'è C'è ancora sabbia Perché ho rotto da qualche parte Ed è volata giù la sabbia C'è il problema principale Che Se io Rompo Io sto pulendo In una zona di 4 Non so quanto serva È un po' più largo Erco 2 Mi sa che anche Sì anche questa Lato sinistro qua Poi si sostituisce tutto con la terra Così evitiamo che piova dentro Si sostituisce con i terroni No aspetta Cosa? Eh? Non ho capito Sapete amici Amici del sud vi voglio bene Niente niente Non ho detto assolutamente Ah ok Anche la ghiaia Perfetto Quindi niente Mandate le foto dei peni Ai moderatori Così Ce li gireranno E valuteremo Il vostro pene Lollo Grazie del Prime Benvenuto E grazie a Che ferice Che si sta facendo Tatuare il gabibbo Sulla schiena Adesso torna Anna Siamo a 300 You know what Grazie mille Anna Devo un attimo Pensare a cosa Però va bene Ok Ora dovrebbe essere a posto Ti dirò Però mi piace Arrivo Adesso controllo Pulito Pulito Clean Ah ok So cosa Grazie Nicola Del Prime Benvenuto Adesso vedo Se mi si allaga È un casino Se si allaga So cazzi Ok Adesso devi fare un'altra cosa Mettere tutta la terra Sopra questi blocchi di pietra Se no È brutto Perché ci piove Ci piove addosso Adesso vado a mettere Stavo prendendo un po' No È volato giù tutto Di nuovo Ma mi sa che Le rotaie le rimetto dopo Sai Mettiamo dopo le rotaie Già capito Ma ci credo Ma cos'è Com'è successo Eh non è facile Come sempre È come sempre in realtà Non è facile come sempre Dai Bertra Muoviti Ma cosa vuoi Ti sto facendo il lavoro Di prepararti i mattoncini Ti lamenti pure Come se Non lo stai facendo per me Lo stai facendo per la famiglia Lo sto facendo per voi Come insegna lui L'unico grande Inimitabile ciccio Da un tocco italiano L'acqua che gocciola Eh lo so ma Chiari che a quanto pare È più bravo Della famiglia Benetton Quindi Evitiamo di finire Come gli originali Magari Solo parti originali Allora Oh cazzo Sto finendo La terra Qua sotto Dovebbe essercene un po' Io ci metto la sabbia Sui mattoni Va bene va bene Volerà giù tutto Però va bene No Sui mattoni L'hai già fatto Non dovresti toccarlo di nuovo Eh ma metti caso Vedi di non toccarlo Mettiamo caso che non succeda Ok ci proverò Oddio Al pelo Ce l'ho fatta Vedi il problema Anche prima Con la sabbia Quando io rompevo Volaggio la sabbia E non riuscivo a Mettere il blocco Per tappare Abbastanza in fretta Comunque è bellissimo Perché io ti vedo In questo momento Che stai scavando Sopra di me In che senso sopra Sotto La sa No Ti ho fatto un Un frank Incredibile Dai Bert Va già abbastanza male Per favore Soffri Soffri Ho già sofferto Abbastanza Te ho Prenkato De brotto Raga Per chi chiede Perché non stiamo facendo L'autostrada Di Di ghiaccio Con le barche Perché è perché Fa cagliare No ho finito i blocchi Eh niente Tragedia totale Ci sono Ci sono dei blocchi Li ho messi A cucinare Sì sì no Li avevo finiti nella mano E quindi ho aperto E volato giù tutto È successo È successo a strage Lei è veramente Un mariuolo Se lo faccia dire Eh vabbè Ma tanto sapevo che Cioè non ne sto più Rimettendo le rotaie Quando se ne vanno Se ne vanno È un po' È triste Ma è così Senti che bei suoni Che ci sono Scronch 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 Comunque se vuoi Della terra Vieni qua sotto Che ne ho No no ne ho Ne ho Beh dovrebbe essere Tutto a posto Perché ora è tutto Coperto lì È vero Qua non sgocciola più Non c'è la sabbia Qua davanti a me No no Cioè non Ci sono molti strati Lì a di massimo Ok È vero È molto più comodo Adesso Oh sì Molto meglio Oddio potrebbe No no Non dovrebbe più Venire giù No se non sgocciola Vuol dire che ci sono Due blocchi almeno Quindi Ebbè ma se sono due Glocchi di sabbia Sei puntemesso Ma è per quello Che ti ho chiesto Se non c'è più sabbia Boh li hai di massimo No Vado a prendere Un po' di mattoncini E mi rendo utile Anche io Bravo Cioè il tagliapietre Falli pure Sì sì Ho visto Adesso li sto facendo Ok abbiamo finito Con la testa Oh è stata dura Ma ce l'abbiamo fatta Alla fine Questo è ciò che importa È stato duro È stato duro E l'importante è Che sia duro Se no è un casino Allora qua che meraviglia Dai è molto più bello Rispetto a prima C'è niente da fare È maraviglioso Beh sì è molto carino Te lo concedo Molto rustico Poi con questi Mattoni di pietra Di pietro? Di pietro? Povero pietro Perché gli sciogliamo I mattoni? Tiamo le torce qua Nei buchi Semmai che Sponi qualcosa Molto bello Il fatto che io Non possa Uscire dalle rotte Nooo Ecco beh Ma fallo Dall'altro lato Almeno Perché devi farlo Qua con me Ma chi t'ha Murt Bukin Eh sì Così impari Ecco L'ho detto L'hai detto RATM RATM Il fra dei trasporti pubblici Milanese Oh Ok Comunque penso che Se 5 anni fa Mi avessero detto Che io avrei passato I miei pomeriggi di lavoro A scavare su Minecraft Gli avrei detto Ah coglione Eh sì Com'è Com'è particolare La vita Pensa un po' a te Come si cambia Per i soldi E Bertra Vero Incredibile Questa cosa Adesso che ne fai Così tanti Allora Inutile che sfotti Ne faccio sicuramente Più di prima Oh beh Io Non ho detto nulla Ah Per l'amor del Cristo Quello bello Come cazzo No Sono intrappolato Ok Boh Fare un'altra fermata qua Mi sembra un po' inutile Quindi No Non ha senso Allora Do prendere altri mattoni Bofa Dio mattone Il dio mattone Eh Eh Sono tutti dei No di Tutti di Per favore Scusa No è che ogni tanto Mi dimentico Sono tutti di Ma di diverse categorie Tutti di Di diverse categorie Capito ragazzi Molto importante Il meme morto Il meme morto No 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 è vivissimo È vivido Questo meme qua Non morirà mai Di diverse categorie Mi dispiace Berta Ma se lo merita Di morire Eh È vetusto No è un bel meme Non potrà mai morire Mi vede Mi vede in disaccordo Signor panic Per me I dì Sono tutti Belli E vivi Ogni dì È bello a mamma sua Entrere live Fieri bestemmia Non è una bestemmia Ragazzi Sono dì Di diverse categorie Per favore Un po' di cultura Cucu Cultura Paparapà Paparapà Che brutto Programma Che era Un applauso Alla Mediaset Per aver rovinato L'infanzia Di tanta gente Con quel programma Eh no Io avevo portato Molta più Ah mi sa che Le pesa tutta La pietra Io ne ho presa Una mina Sì 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 Ne ho Ne ho veramente Uno sfacimento Cioè più che altro Abbiamo finito il carbone Per mettere a cuocere Ah Potrebbe essere Un bel problema Questo Anche se qua Abbiamo quasi Finito Però Allora Signoro zombie La prego di Ecco Recarsi altrove Subitaneamente Che poi Quale era Diciamo La bestemmia Per il quale La gente Aveva attaccato Ciccio Che poi Gli ha fatto dire Quella cosa lì Dio mattone Forse No era un'altra Poi è iniziato Con dio mattone Penso eh Chat Qualcuno se lo ricorda Era dio lupo In bestialito No non lo so Che lui ha tirato Diciamo una bestemmia Di quelle molto particolari La gente ha detto Hai bestemmiato Lui ha detto No Non ha bestemmia Dio mattone Dio yogurt Dio banana Era dio mattone Davvero Una delle difese Più basse Meno convincenti Che abbia sentito Eh vabbè Con tutto l'amore del mondo Per Ciccio Che è bravissimo Lavoratore Lo so Però ha creato Un bel meme Era necessario Per Il pub Italia Secondo me Ci ha fatto crescere Un po' tutti No? Si sposti Bertolda Ma si sposti Devo costruire Ok Io non posso più Tornare di là Adesso Ma lei è un criminale Cosa Ah uh Eh mi son rotto Le ginocchia Peggio per te Eh Le farò sapere Dal mio avvocato Signor Benetton Questa è Mancanza di sicurezza Sul luogo di lavoro Eh glielo dico Ma Molte ha detto Dio banana comunque Ah Quindi era Dio banana Suppongo che non lo sapremo mai In realtà Non lo sapremo mai Con certezza Grazie 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 Il prime Benvenuto Grazie Cuia Per il sub tier 1 Nicola Grazie Il prime Lollo Aster Grazie Il prime Dai ragazzi Continuate così Allora lì Signor Berto Io ci metto Le scale Guarda Che bell'effetto Adesso ti faccio vedere Ah di lato Così Vediamo Non ho capito Non ho capito Scusa Ah qua sopra Ma lei è Ma lei è uno studioso È incredibile Eh lo so Ma lei ha frequentato Dei luoghi Eh La mia grande scuola Il Pacinotti Mamma mia Io mi immagino Queste La gente I dirigenti scolastici Di questo liceo Che si vedono La gente che arriva E si scrive Ma perché ti sei scritto Boh perché Fieric C'era Fieric Ma chi è Fieric Eh Ma ormai penso Che perfino i professori Sanno che c'era Fieric In quella scuola Mamma mia La leggenda Immaginate che roba La gente che va Immagino i miei ex professori Che dicono Eh sì qua Qua c'era Fieric Ma me li vedo Lanciatissimi Sì 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 Tutti super orgogliosi Allora Alberto Io ho insegnato a Fieric Lo sa Mamma mia Da mettere nel curriculum Incredibile Vado a prendere del carbone Vada vada Così lo diamo Lo distribuiremo Ai bambini cattivi Per Natale Esatto Arrivo subito Io ho completato I lavori di muratura Bravo Creeper No 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 Cattivo No Brutto Via Sì 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 Sai Bertra cosa dovresti fare Mettere le torce E non ho carbone ne manco io Vado a prendertelo Non ti preoccupare Va bene Tu dovresti rimettere le rotaie Adesso metto tutto Sì Dato che al momento C'è un fosso Ok Vai facciamo i lavori certosini Rotaie e carbone Rorbaie cartone Eh beh Un bel lavoretto Sta ferrovia Comunque dovremmo Primo o poi Sostituire tutte le Le ferrovie Sì le ferrovie L'italiano L'italiano è spettacolare Quando vuole Dovremmo sostituire Tutte le Le torce Con le lanterne Eh la madonna Ci manca solo questa Primo o poi Ho detto Mica mo Va bene Lo farete voi Ma sì In un futuro Quando saremo tutti Saggi e grandi Saggi e Gandhi E Gandhi Yes Sto arrivando Con il carbone Prepara Lano Oh sì Spargi il tuo Carbone rovente Nelle mie natiche Ah che bel Trattamento Potrebbe essere Non so Qualcosa di Tipo un Massaggio No Carbone rovente Nelle natiche Un bel massaggio Le chiappe Pensate che bello Massaggissimo Incredibile Massachusetts Oh Sei impallato il server Come sei impallato il server Parla in server Ah si Sei impallato Vergo Un server Userver Ha detto no Niente Userver È crashato tutto È crashato tutto Crashato tutto ragazzi Ecco Userver Piangete Non va più Non va più ragazzi Non va più il server Eh no è esploso Ciao gatto È esploso ragazzi Raga scusate siete crashati? Sì siamo esplosi Piangete tutti Stanno già piangendo un botto Stanno già piangendo Rosy mi dispiace Tu stai piangendo? Io lo chiamo Rosy Siamo confidenti Ma che stai facendo voi? Io sto provando a rilogare ma mi sta dicendo un sonoro succhia Anche a me Noi stiamo piangendo Chiamo M Secondo me è Emerald Il server è up No no il server è Incredibilmente Io sono dentro eh Mi sto per far bannare No ora riuscite ad entrare Io sono dentro tranquilli Oh sono rientrato A dopo Molto bene a dopo Oh ce l'ho fatta addio addio Oh sì Oh sì Oh sì sono tutto dentro Eccomi Coglione Ah Testa di cazzo No Cos'era questo no No Tieni Betto Guarda quante belle torce puoi fare con questi Porco due Divertiti Sai cos'è che non ho in realtà? Cosa? Indovina Il legno Il legno Esatto Ma quello in realtà interessa No in realtà ce n'è un patello Ce n'è ce n'è ce n'è di legno Tranquillo Anche nell'altra ceste Aspetta che devo fare mo Con lo stone Mi faccio i wall Perché mi serviranno un sacco di muretti di cobb I wo Mi servono Una volta ne avevamo di Ah no forse li ho usati tutti Oh mi ricordo Abbiamo un sacco di pezzi di cobbels Quindi mi sto facendo i muretti Bravo L'oro Molto bene Senti che bel suono Ah c'è un'altra cosa Bertra che dobbiamo fare Dica cos'è l'altra cosa Dobbiamo rompere quella ceste lì No non mi dire queste cose Ah forse ho un'idea Un'idea Aspetta Più avanti Pensiamoci un attimo più avanti No fammi vedere forse ci riesco Prova a prima di aprire Mamma mia sono un genio Bertra Cosa hai fatto? Prova ad immaginare come sono riuscito a farlo Non ne ho idea Con le slab Ci ho messo le slab Bertra Madonna ma sei fenomenale Di conseguenza si apre senza Perché c'è un ender pearl qua? L'ho lanciata perché sono un po' speciale Stai lanciando un sacco di materiali Lo so lo so Basta lanciare la roba Non ho lo spazio nell'inventario signor Hai già compiuto grave pericolo Errore Niente Guardi mi faccia mettere solo un'altra cesta Che ci lancio dentro un po' di cose Che non ce la faccio più Sono veramente pieno Ma stai doppiando paperissima per caso? Sì sono diventato No sono lillo Ah Ridete Dio merluzzo è una mestemmia Una mestemmia È una mestemmia Non lo so chiedetelo a ciccio Io non lo so questo Grazie dei bittini comunque Secondo te è una mestemmia? Secondo me è un po' una mestemmia Sì Allora sì Mi dispiace ragazzi Chiunque l'abbia detto bannatelo Per sempre Per sempre Per le mestemmie Mi sta laghicchiando Minecraft Non dire queste cose così nel server Che già è traballante Allora Ho smesso Va bene Ho abbastanza torce per una settimana e mezzo Il che Ok Allora allora Io inizierò ad andare a mettere i muretti Che sicuramente ci servono E anche un po' di torce Sto un attimo pensando al design qua all'entrata Non so se lasciare Il design del prodotto industriale intende? Sì Del prodotto interno lordo Ah eccolo eccolo Tipo una roba del genere Vediamo un po' La roba Chi cazzo è stato? Ma come ti permetti? Ma sei veramente un gran male educato Lo sai vero? No Mamma mia è vergognoso È questo che insegnano a Pacinotti? Eh? Eh? Se dico di sì si scrive più gente? Probabilmente sì Però noi non ne parliamo Molto bene Casa dei mates Con le sue mura per tenere fuori gli immigrati Eeeh Chiedo scusa se ho ferito la sensibilità di qualcuno Grazie al signor Franzo Salve Allora Cercando di abbellire un attimo l'entrata qua Dio Cristo Vado Un attimo e urli Dio Cristo Eh ma mi sta sul cazzo la pala Che tutte le volte premo Tasto destro Non è una cosa così positiva Se hai la pala sul cazzo Fattelo dire Sta palla di merda Ah body shaming quindi capisco Poi c'è lama qua Ma che cazzo vuoi? Sparisci 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 Ecco qua Speriamo che non fosse di qualcuno Lama allagante Quinto prestigio Lama donna Nooo È sessista 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 Oh mio dio diventerò scemo a mettere le torce 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Pogchamp Pogchamp 1 2 3 4 5 Ok Ho risistemato l'entrata Sei felice? Un botto guarda sono fatto di gioia Sono fatto come un copertone Abbiamo altre cest Bene Bertra Ci servivano altre cest qua Che poi dovremmo togliere Eh oh senti c'è un botto di roba Siamo pienissimi di cose Lo so Lo so Allora sistemo le rotaie dai La vera domanda è Io adesso vado avanti Ah si adesso vado un attimo in missione a mettere i muretti Perché poi c'è un'altra galleria da fixare Parins è precipitato Ai 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 Molto male ragazzi Molto male E' stato È stato speedrunnato la caduta al suolo E niente Sta di nuovo venendo notte Siamo passati dall'altro giorno dove non veniva notte ad adesso che è sempre notte Che bella feature Che bello questo server Con queste feature molto belle Ma che sono spettacolari Ok Io ormai qua l'ho finita La La prima galleria Uno due tre Quattro E cinque Ok Fenomenale tutto ciò Ma chi cazzo è che l'ha fatto storto poi Come mi sembra chat Carina Adesso magari il sopra lo facciamo fare da Leo Che lo rifà uguali i denti come era quell'altro Ah giusto Io di nuovo verrò Toccacciato dai phantom a sto punto E via Eh finché non dormi sì Eh vabbè Che venghino Non li temo La mia chat ha detto che è bellissima Grazie ragazzi Chissà se dicono la verità Andiamo con altri di mattoni ragazzi Ma qui lei ha fatto un'altra fermata Ma lei è un filantropo Io ho fatto tante fermate Signor Bertra Fenomenabile questa cosa Hai visto? Mamma mia Non mi sembra giusto lasciare indietro della gente Vedi non sono ancora stato eletto E già lavori per il popolo Anzi non siamo Perché alla fine io sono soltanto rappresentante Della potentissima famiglia Benetton Ricordiamo Effettivamente Cinque Uno, due, tre, quattro, cinque Uno, due, tre, quattro, cinque Arrivo La potentissima famiglia Benetton Dove i membri sanno a malapena contare fino a cinque Vabbè Non è facile come sembra Uno, due, tre, quattro, cinque E sboing Uno, due, tre, quattro, cinque E sboing Ok qua serve un'altra fermata Signor Bertra Se sei d'accordo Nella seconda caverna Sei all'altra galleria Sì 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 Assolutamente sì Allora La facciamo Qui Tre, cinque Stuc E stuc Guarda quante torce Ecco qua Sono brutte le mie fermate Però ho un'idea di base almeno Ma sì cioè La pragmaticità è la parte principale alla fine Cioè alla fine è Leo quello bravo nel design Io non tanto Io sono bravo a scavare i buchi Ma si è visto dal bellissimo chunk che ho creato Sì molto utile soprattutto Un artista ha bisogno di creare cose utili o cose belle Signor Panic Me lo dica No no veramente Se riesce a fare entrambe sarebbe buono Capisco che non sia da tutti Anzi da nessuno Soprattutto da te Intanto la mia sarà Un'attrazione turistica Che verranno a vedere Dal Guatemala Non so perché proprio dal Guatemala Ma dal Guatemala Ok Saltatempo Trattino basso Trattino basso Terremo in considerazione Siamo in arrivo a Bologna centrale Questa discesa Tutta diseguale Mi fa venire Il lato Grazie saltatempo Quante volte l'ho sentito Bologna centrale Grazie mille Se non salta tempo Ecco qua Uno due tre Quattro cinque Splip Splop Eh beh E questo è quanto ragazzi Questo è quanto Ma c'è in buia sta ferrovia qua Vi invito come al solito Ad abbonarvi gratis con Amazon Prime Se ce l'avete pronto Nel video che hanno fatto ieri Dicevano che fa schifo Il tuo chunk Che video hanno fatto Chi ha fatto dei video Video Io sono uno stream E non faccio video Non so di cosa tu stia parlando Oltretutto dobbiamo anche pensare Dobbiamo pensare anche a qualcosa Per Qualche goal Per i Cinque mila sub Sì ti abbiamo dissato Bertra Te lo meritavi Guarda Per vendetta Ti ruberò il content No Ecco Adesso Mi metterò a reagire No Agli scherzi epici Pensavo ai bambini Mamma mia Volato giù un creeper qua E ogni tanto cascano creeper dal cielo Sì sì Questo è veramente dal cielo È cascato Porca troia Leo ti ha dissato Ma Leo deve stare molto schiscio Che io dopo vado da Dahlia Mentre lui sta venendo statuato Se mi scappa male Disegno un cazzo sulla schiena Gli donerebbe Ammettiamolo Però Il cazzo sulla schiena di Leo? Sì Avrebbe il suo fascino Innegabile Avrebbe il suo fascio? Eh? Signor Fieric Non dica ste cose Questa tu non va bene così Cioè sono parole che mi stai mettendo in bocca Che io non ho utilizzato Smetti di mettermeli in bocca Ma Uno, due, tre, quattro, cinque La mamma mi ha insegnato a contare A me il professore al Pacinotti Ma eccolo lì Pacinotti sempre presente Assolutamente Si vede, si sente Pacinotti presente Oh Fast forward Stucche te Mettere le torce penso sia la parte più noiosa di questa ferrovia Già Seriamente Leo si sta facendo tatuare il Gabibbo Sì raga Praticamente il Gabibbo Grande più o meno così Sulla schiena Che dice Belandi No ma è serio Chi non lo farebbe voglio dire Cioè questa è la domanda Non il perché Perché no Ma infatti Cioè La domanda è perché no Ragazzi Io pensavo scherzassi No raga vi pare che scherzi Eh potrei scherzare su una roba tanto importante Come il Gabibbo di Leo Eh voglio dire Che cazzo ci fa Il lama Suicida Sul bordo della montagna Te Coglione Mi sputa pure Sto fallito Oh è arrivato nuova Tic 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 Io sto belendo La seconda grotta Ma lei è un matto Vero Ti va bene Il vero matto Il vero matto Sì sì Io sto mettendo le torce E poi finisco di mettere I muretti Che sicuramente saranno Necessari Ci sarà Il nécessaire Dei muretti Nooo Dai facciamo finta di niente Non è facile come sembra comunque decidere Come mettere i mattoni qua Perché no? È perché Chi è che li ha messi ste torce? Manica di Di Storto Diciamo che tu non c'eri Io e Leo Abbiamo un po' improvvisato Cazzo ma staper contare Non è una roba così complicato Eh se solo lo avessimo fatto Ma sono tutti storti Mona Chissà chi è stato Mannaggia Ma ecco cosa vi insegnano Al Pacinotti Cristo Dio Vabbè anche se fossi Ne sono orgoglioso Eh faccia Non orgoglioso È il mio percorso di studio Qualificato È importante Lei è proprio È veramente Davvero Sì Lo sono proprio davvero Non per finta Lei è proprio Un proprio Davvero Vero Ecco Vertra cosa te ne frega Mettere a casa ste torce Se poi devi mettere le lanterne No è una questione di principio Così ci vuoi Meno mettere le lanterne dopo Infatti Oltretutto Vorrei precisare Ma tutto il ferro Lo prendi tu? Tutto il ferro Per me È quello per fare le lanterne Ah sì Beh poi Tanto una volta Aperto Land Secondo me Ci lasceranno fare Le nostre farm Abuse Non penso funzioni così Onestamente Dici di no? Dico Eh potremmo fare Una volta Stacchiamo una live Stacchiamo la live Allora andiamo a farmare Un po' in miniera Giusto? Sì Nella nostra miniera Quella segreta Dove c'è un sacco di ferro Sì E poi E basta Cioè Che palle È pieno di ceste Nei punti peggiore qua Chissà chi le ha messe Ma che cazzo è successo qua Che c'è un buco Nella ferrovia Ma Cristo È esplosio un creeper? No è un buco Sottile uno Un blocco solo È qualcuno che era Incredibilmente simpatico Non c'è neanche il granito Dio Dio Parni si sta rubando A casa nostra Dicono in chat Beh noi non lo sappiamo È vero Sarebbe metagame Del resto noi non siamo a casa E non abbiamo ancora installato l'allarme Dico bene Esatto Poi installeremo anche l'allarme Come funziona il nostro allarme? Che fa cadere la lava su tutto La nostra casa sull'albero Yes Sembra un ottimo allarme Tipo una pressure plate E quando qualcuno arriva Vola giù la lava Esatto Anche noi Non c'è un vero modo Per salvarsi In realtà Vabbè Nel senso Una volta che spende la decisione La si porta avanti Effettivamente Scusi signor Fieri Clay che è più un esperto Ma cosa si dice A quelli che si lamentano Delle pubblicità Durante le stream? Quelli che si lamentano Delle pubblicità Durante le stream Che sicuramente Non sono sub Esatto Quindi non lamentatevi Delle pubblicità Se siete dei poveracci Ragazzi Bisogna Pormagnare nella vita No? Eh Parin si vuole Ma sono sul discord Ma può venire Cos'è tutto questo Metagame? Ma infatti Basta metagame Che cazzo Basta 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 anche alberi In mezzo alla nostra Cazzo di strada Dico io Parinze Se hai le palle Vieni a parlarci qua Ti aspettiamo Ma cos'è questo dissing? Vieni Parinze No Lascia giù la roba di Fortnite Ti sento che l'hai presa Va bene Metti subito giù La roba di Fortnite Va bene Va bene Solo per questa volta Noi siamo delle persone civili Ah sì? Più o meno dai Ok Niente Madonna quanti moretti di merda Devo mettere Guarda ti capisco Più che altro qua Con gli alberi Ogni tanto passano a filo Della ferrovia Come facciamo? Li lasciamo che si intersecano Con i moretti Però fa un po' cacare Però d'altra parte Dovrei abbattere 600 alberi Ancora Non so Dove ti porta il cuore Vai dove ti porta il cuore Svezia Certo se venissi Ad abbellire le grotte con me Ma sto tirando il muro Fino alla fine della galleria Della roba Fammi fare Ma se è importante Per te sa Trovi una cosa importante da fare Vabbè Eh parte del lavoro eh Andrà fatto Che poi qui sono Sottopassaggi Completamente inutili Però Quello è il sottopassaggio Per la casa di Totta Che non esiste più Esatto Fenomenale Non vi dico Cosa è successo Off stream Lasciamo stare Stendiamo un velo pietoso Madonna Il quantitativo di lamentele Che ci siamo beccati Per sta strada E poi la casa di Totta Non è stata fatta Perché il Trump Wall dei mates Ha rovinato la vista Questo Bertra Ci fa capire tante cose Sulla superficialità Di queste scelte Che vengono Fatte Le nostre compagni Ma infatti Cioè noi qua Che diamo lavoro Alla popolazione Intanto Qui si cambiano Cose importanti Come la casa La famiglia E l'onore Per Non so che cazzo Sto dicendo Ho capito Algari di merda Perfetto Ho quasi ultimato I muretti Oh sì A breve Ritornerò da lei Bravo bravo Io sto accogliendo Un sacco di carbone Che qua Ecco Ma che bella La strada Le torce Con il cazzo Che le metto Ma sai cosa succede Dopo se non le metti Spawno nei creeper Creeper Oh man Allora Paris ha compiuto Uomo chiamato Contratto C'è solo un modo Di averlo fatto Con i villager Eh sì Allora Jumpy ci ha lasciato Due diamanti Per il servizio Il servizio Dico solo questo Dico solo questo Jumpy ha pagato Il pedaggio Secondo voi È un messaggio Passivo aggressivo Lo so Io dico solo questo Dico solo questo Hai ragione Tu dillo No perché io mi ricordo Una volta Tanto tempo fa Signor Bertra Che nel gruppo Qualcuno ha vietato Di fare le farm Perché avrebbe rovinato L'economia del server Quindi Noi possediamo I villager E quindi Cioè È ovvio che nessuno Andrebbe mai lì Dai villager A fare gli scambi Gratis Rovinando così L'economia del server È una cosa nostra Quindi dovrebbe Almeno pagare il pedaggio Ah Giusù Dico bene Dice benissimo Se no Gli avvocati ovviamente Essendo noi la famiglia Benetton Esatto Esatto Quelli dei Marin Ah ok E niente Era dei Marin Allora spero che le lasci qualcosa Ma che cazzo era Quella cosa Il discorso Che era casa nostra Ah da boh Fronzate Come voi siete soliti dire Beh sono d'altra parte Fan nostri Quindi Eh in effetti Non potiamo aspettarci di meglio Siedono questo grandissimo Vero Ciao pollo Sei molto carino Vieni qua Fatti limonare Non posso chiedarti ragione Non me lo posso permettere Quindi ti dico di no Però abbiamo completato il muro Ed è una cosa incredibile Jumpy ha detto che i due diamanti Che ci ha lasciati Li aveva rubati da casa nostra Quindi sono i nostri diamanti È a posto così È importante saperlo Va bene Abbiamo comunque apprezzato lo sforzo È comunque un gesto È un gesto Sì Diciamo che è un gesto Non è un gran gesto Ma è un gesto È un gesto Sì C'è Leo C'è Giampy Tecnova Parrin Semerald Metano Marin Totta Mollu Mamma quanta gente Franzo Poi boh Non so più Janko Extreme Che non so Esattamente chi è Si stava incazzando Purtroppo neanch'io Ma lo salutiamo Ciao Janko Sei il mio prefe Ciao Gianni Ah ci sono anche i mates Giustamente È vero Quando ne hanno voglia Sì a volte Ci sono ogni tanto Compaiono Dico Dicono Bella Compaiono E rubano Ah c'è Polodo È vero E il signor Polodo Sono finiti i mattoni C'è Bertra Dicono È vero È vero È vero che c'è anche Bertra Non lo so Però c'è Fatto sta che c'è Ah ok Sarà sicuramente Uno streamer simpaticissimo Secondo me è uno streamer fallito Beh è plausibile però Ognuno fa quel che può Via Nella vita si fa quel che si può Nella vita Si caga Oh adesso ti faccio un'altra Bastuta super divertente Hai cagato? Merda È capito tutto Metti la glostone nel muro Così c'è un effetto migliore Ora la mia carriera da comico è completa Dicono Metti la glostone nel muro Così c'è un effetto migliore Beh non è malaccio Io lascio a voi Io metto i miei mattoni di pietra Sono un bravo tiktoker Anche io sono un bravo tiktoker Lo sai Bertra Sper tutto perché non li faccio io Questa è la parte più bella Ne ho fatto uno l'altro giorno Mi ha fatto 330 mila views E praticamente il tiktok L'ho visto L'ho copiato in 15 secondi E l'ho messo Questo ti fa capire che bella piattaforma sia Molto molto C'è anche tier Tier c'è È vero tier ma non è mai entrato Ah beh tier c'è in modo diciamo molto dantesco Sporadico Sì La mia carriera su tiktok Da adesso ho deciso che sarà Vedo un tiktok che mi piace Se è facile da replicare Lo copio Lo incollo E me lo metto sul mio profilo Fine Cosa fanno i tiktoker Mi dissano perché gli copio i content Secondo te? Non lo so Già copi me Con le reaction Che ho inventato io Eh lo so Non volevo Un po' di dignità per favore Eh questo contenuto così innovativo L'ho visto Ho detto cazzo Reaction Un po' di dignità Bertra Dico solo questo Dico solo questo Dignità Eh no purtroppo Ho visto Ho visto quello Ho detto Eh sì hai visto Mi sa cosa hai visto Eh Ho visto tutti i bambini Bertra sto arrivando Dove sei dove sei Io sto mettendo le troce Non dirò Non dirò mai più questa parola Adesso arrivo tranquillo Sto arrivando col carrellino Ettore Grazie del Prime Benvenuto Rial Ricky Grazie per i quattro mesi Ben tornato Ci stiamo dicendo un po' Così facciamo iscritti Eh C'ho già Beh l'ho già fatto cinque anni fa Con un mio amico E ha funzionato effettivamente Quindi Davvero l'hai fatto? Sì Dimmi di più ti prego Sono curioso Eh Avevamo fatto questo video Super ironico Si chiama Vincenzo E Chirenis E praticamente Avevamo fatto un video Dove ci prendevano letteralmente Per il culo Ma Era proprio spinto Mi avevano messo Occhiali della nonna E dicevo che Mi aveva copiato Perché Anche lui aveva degli occhiali Che erano tipo Vagamente simili ai miei E Aveva creato Un secondo canale Esattamente come me E queste cose qua E lui mi ha fatto un video contro Dove mi prende in giro Perché Lui è napoletano Quindi faccio vedere La monnezza Lui invece Terva fuori il parmigiano Reggiano Così E niente I miei iscritti Sono andati da lui Tutti a ridere I suoi iscritti Sono venuti da me E mi hanno flammato Giusto così Meritatissimo Yes È stata un'ottima esperienza Ma è bellissimo È stata un'ottima esperienza I suoi iscritti Non avevano minimamente capito E fosse ironico Ma Se tu vedessi il video Dici Dai non è possibile Che non l'abbiamo capito E vabbè Quella è la parte Purtroppo Purtroppo Va così Non tutti ci arrivano No Direi di no Mamma mia Chirenis Mi triggeri duvo Che bello Che era Che starnuta Che starnuta Potentissima Fieric Sergio Fieric Sergio Fieric Sergio Fieric Sergio Fieric Sergio Fieric Sergio Sto fiendo le torce Arrivo Stuccheroni Stuccheroni Cazzo Te le portavo a saperlo No no Ma in realtà dovrei Mi sto ricollegando Quindi dovrei esserci 3 3 5 Facciamo così E ti piace più il dolce o il salato? Un po' con il dolce Perché il dolce è troppo dolce Bella roba fra Dove sei Bertra? Dove sei? Eeeh So qua 1 2 3 4 5 Dove sei? Arrivo Sollillo Che ridere Sto arrivando Ridi Ridi Dove sei? Basta dire che era meglio col ghiaccio e con le barche Bestie Mamma mia Che noia sta gente Noo Ah ti ho fatto il prank pazzo Non dormite Andiamo a dormire subito Ma manca delle rotaie là sotto Non è che qua forse volevano fare Non so cosa mi significa Non lo so Era un buco perfetto Infatti adesso ho preso il granito per riempire Ma secondo me Leo voleva fare l'uscita Non lo so No non è qua l'uscita No tipo vabbè Non importa Ok vediamo un po' Arrivo Arrivo anch'io Ma qua forse è andato avanti Leo Per chi non mi ricorda se è andato avanti così tanto Ma basta Vieni qua strunzo Ecco Sei stato rubinato Rubinettato Para 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 Basta Tanto è finito È un po' divertente Uno, due, tre, quattro, cinque Ok Allora vado avanti signor Bertra Va bene Le rotaie Io non ho niente Se mi dà delle rotaie vado anch'io avanti No È un buon cazzo Lo faccio io Va bene Fai un po' il cazzo che ti pare Fai altro di utile per favore E non c'è niente da fare letteralmente Ah no Tieni i mattoni di pietra No no Vai Sono stato prankato Hai visto che qualcosa da fare c'è sempre E niente E ti piace più il dolce o il salato Un po' il dolce Perché il dolce è troppo dolce E niente È la vita Signora Mucca Di nuovo è un piacere incontrarla Che chill Minecraft Soprattutto quando Ma allora Gente come Franzo E Mollu Tu li hai mai visti nel server? Mollu il primo giorno Perché ci sono Ma io non li ho mai visti dal vivo Nel gioco Cioè cos'è che stanno facendo In questo momento? Non lo so onestamente Però quando dovremmo fare L'autostrada Fidati che li vedremo In che senso? Eh se dovremmo fare Gli lacci autostradali per tutti Cioè almeno quella è l'idea Poi non lo so Beh gli lacci si faranno una volta vinte Le erezioni Assolutamente Parrins è esploso Alla F in chat Piangete 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 in chat da Parrins Piangete in chat Il buco Ok Vietato l'accesso a tutti Ma che cazzo? Vietato l'accesso Ma cos'è sta roba qua? Ma chi la fa? Vabbè Non lo so Ok What? Ok Insomma mi avesse rubato Una rotaia l'enderman Stare sulle rotaie con un blocco Normale che era terra Ok qua metteremo allora Maronna che casino Fare tutte le cose qua Ce n'è ancora di pietra indietro Sì Di pietra Sì Ce n'è un sacco nelle fornace A posto Perché qua Siamo già messi abbastanza malino La Nintendo Switch Con lo scaffo Mai pensato di fare Minecraft stramoddato? Comunque io sono molto invidioso di Leo Che è full nederite Dovremmo anche noi andare E farci valere Ma per quello che conta in realtà la nederite A me non piace neanche È carina dai Giusto per dire Guarda quanto cazzo Flexo grosso Sì per flexare più che altro Vabbè siamo la famiglia Benetton o no? Eh ma C'è il colore non mi piace Ogni volta che lo dico cambia È un bel colore Ah ma qua non l'hai finita tutta La roba Eh no Non avevo più mattoni Ho messo a cuocere Sono venuto a fare le rotaie Ecco qua Sono molto concentrato nel mettere Le mie rotaie Carina casa di A-Marines Ma è quanto alla nostra Ma sì dai Vabbè la nostra è Imbattibile Di Leo si può dire tante cose Ma è un bravo designer del Minecraft È vero È vero Fierico ogni volta è un onore Usare il prime per lei A parte quel suo brutto vizio Di fare il gabibbo Di farsi esplodere Sì Così finiamo l'oro Va bene Riporo Non ce l'abbiamo più Sappilo Volevi dell'oro? È finito No non volevo dell'oro Mi piace la ficatura Mi servirebbe un pochino di pietra Quella normale Non mattoni Riesci a portarmela No direi che non riesco a portartela Sono in culo ai lupi Scavatela Io sono qua che faccio i mattonazzi I mattoni pazzi E così una sistrofina I miei occhiadi Sotto le sue ascelle Ma ho fatto la strada Puoi venire con la strada Ma io adesso devo tornare alla seconda galleria O quello che è Niente abbiamo finito proprio tutte le rotaie Ah proprio andate? Osti Vabbè Arrivo Bisognerà andare in galleria poi In galleria In miniera A fare Assolutamente sì Un po' di fero Eh fatti mandare con il È vero Puoi mandarmi con il cart Con la cesta nel cart Giusto Vai Ma poi non ho più il mio cart Eh te ne fai un altro E non ho il fero Ma poi te lo rimando Appena ho finito Eh non puoi rimandarmelo Vabbè adesso te lo mando Eh sì Se costruisco il binario Sì Se mi mandi la roba Posso costruire Allora Cos'è che ti serve scusa La pietra Mi serve Sì mandami una stack di pietra Di pietra Proprio quella che si chiama pietra Eh no Quella liscia Quella cotta Ah quella cotta una volta intendi Sì Si chiama pietra Sì sì Ah io non ho il mio però Non posso fare il minecart Stone Minecart Cazzo Ma rubo una chest E ficcacela dentro Grazie L'ho ammasseo per il prime Benvenuto Grazie Uomo fogli per il prime Zack 38 mesi Vado a prendere la chest Lukebot Grazie 25 Ben tornato Eh No Non ci ho pensato Ma è una merda totale Non riesco a fare il moddato Mi dispiace Ah no Aspetta Bertra Aspetta Tanto ci sono le fermate E quindi non andrebbe avanti Lascia stare Vengo a piedi Lei è veramente un criminale Se lo faccia dire Eh non ci posso fare nulla E l'idea era bella Però con le fermate Purtroppo nulla da fare Grazie anche Tramu Ma benvenuto Signor Tramu Come stai Stavo parlando prima Del Pacinotti Tramu Stavo parlando prima Del Pacinotti C4 Sa trattino basso A CIRDX100 Grazie Bila anche a Nick Ghost Mickey Alex Bian Ma quanti sub Mentre non guardavo Grazie dei sub ragazzi Grazie casa per i beats Come stai signor Tramu Mi sa che Parins Ce l'ha con te Ricky Cosa vuoi per una verruca Del nether Cosa gli chiediamo Non so il valore Di una verruca del nether C'è l'appstation Webcam Merda E' caduto Il voto va bene 69 Ostia Lei è Lei è veramente Un signor Un signorotto Eh Chiedo Non mi farò comprare così Non mi farò comprare così Però va bene Vabbè Ha funzionato allora Un uomo di principio Esatto Un uomo di principio Coerenza Ok Ah giusto In realtà ci servirebbe Dell'oro Lo abbiamo finito Dobbiamo fare tante rotaie Quante linee chiediamo? Non esageriamo Dai Una trentina E la madonna Buona Non lo so Se sei tu l'uomo rotaia Io mi affido Però una verruga chiedo Vabbè Ne ne chiedo 20 Dai Eh sì L'oro non vale un cazzo 20 non mi sembra tanto Di oro Vai nel nether 5 secondi Ok Andato Oh no Ce lo lascia nelle casse Qualcuno dovrà tornare a casa Eh Tanto ce lo Devo tornare a casa Per forza Mi serve della roba qua Sto arrivando Vabbè Ma tanto Non abbiamo la strada Adesso Quindi Qual'è il problema Beh Effettivamente Eh ma per tornare indietro Si interrompe Un po' in fretta E niente C'è voluto un po' di fatica Però ce l'ho fatta Eh ho notato Oh bravo Con questi mattoni Lavora Eh Lavoro Lavoro Ti metto altre due stacca A cuocere qua Grazie Molto utile Cos'è che devi passarmi Che non mi ricordo Ah sì La pietra La pietra non cotta Cioè la pietra cotta una volta La stone Ce l'hai Quanta ne vuoi Prendi Oh Jesus Non così tante Va bene Va bene Va bene così E se non ce l'hai E se ce l'hai ti lamenti E se ce l'hai ti lamenti Mamma mia Bella raga Che streamer lamentoso E ho lanciato il piccone Bertra è finito il ferro Quasi Eh mi sa che andremo in A breve andremo in esplorazione Sotterranea Eh A fare i materiali Poi mi sta andando a portarvi l'oro Vado a prenderlo Vai vai Che meraviglia Questa autostrada Vero? Eh? Sta uscendo bene Però sarebbero un po' Magari sarebbero anche dei pilastri No? Qua Eh sì sì Sulle parti volanti sì Sì Cioè lo sanno tutti Che prima si conosce Si costruisce la strada E poi le pilastri E poi le pilastri E poi le pilastri Però Ebbè ovvio Al pacinotto insegnano Questa è altra Sì 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 assolutamente Grazie Mastels Mastelas per i due mesi Bentornato Enrico Fermi 69 Grazie due mesi Gentilissimi Madonna che sete Vado a Ho preso tre verruche Va bene va bene Va bene anche tre Sti cazzi Noi abbiamo infinite Vabbè abbiamo la La farmina Comunque le abbiamo svendute Le verruche Adesso anche lui le avrà infinite Vabbè ma è così Ragazzi se ha una Due tre cinque Va bene Chi se ne frega Ovvio se prendo una stacca Intera dico Vaffanculo Cioè alla fine Il concetto è la verruche Tu la pianti E poi inizia a moltiplicarsi Quindi Non te ne servono neanche tante Sì Grazie salta tempo Sì quella però è un po' più bella Un po' più bella La stazione di reggivina Mi raccomando scrivete tutti a Leo In privato Chiedendogli come sta andando Il tatuaggio del Gabibbo Perché so che ci tiene Ma Parin si è già arrivato A casa nostra Eccolo qua I don't know Ok le verruche Dove minchie l'abbiamo Di qua Ecco qua Mi è sembrato di vedere qualcuno Nella casa dei mates Ho avuto una sincope veloce Una mini sincopina Dove è andato il buon Parin Se è qua Dove scappa Ma venga su D Ma dove va Sta fuggendo Sa di aver compiuto Il grave errore Ci ha rubato Delle canne da zucchero Ma come ci ha rubato Delle canne da zucchero Ma che povertà Grazie mille Ci ha rubato le canne da zucchero Barbone No no bro Le hai fina rotte Per fartele crescere Ah grazie Metti nella cesta allora Fatto Come se i genti Come stanno andando le rotaie Stanno andando bene Ci serviva dell'oro Perché effettivamente Stiamo un po' finendo Le rotaie Ma con 20 d'oro Quante rotaie fate? Eh purtroppo poche Sono stato buono A chiedertene solo 20 Effettivamente lo sai Che una verruca vale tanto Perché avrei dovuto Tornare un'altra fortezza Potevi darci anche Qualcosina in più Allora Mi hanno dato 22 Per il man Ah sì Ah ok Ne avevo già due Sono riusciti 24 Non ci ho fatto caso Ok 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 Allora In realtà con Ogni Lingotto d'oro Si fa una sola rotaia Di quelle potenziate Di quelle alimentate Quindi Si fa quel che si può Però se vuoi dare un'occhiata Tra quanto pensate di finire? Eh Tra quanto pensate di finire Però io Posso contribuire con dell'oro È per le rotaie Perché ne ho davvero tanto Oddio Allora Sì Cioè più che altro Perché Allora il ferro È quello che serve di più in assoluto Sarebbe proprio tanto di quello Eh Quello non posso Ti posso dare però Boh dai 51 d'oro Beh va bene Ci si fanno 51 rotaie Beh non male Di quelli potenziali Andare un po' indietro A buon rendere Va bene Se Quando poi vorrai L'allaccio a casa tua Ci mettiamo d'accordo Così lo facciamo come lo vuoi tu Te lo porto Te lo porto a casa Sono qua all'inizio Se vuoi farti Vuoi farti un giretto Per caso C'abbiamo il kart No 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 È perché vorrei fare Devo trasformare uno zombie In un villagero umano Perché Tutti mi hanno detto Hanno i vari villager Gli altri Però ho detto No voglio fare qualcosa di mio È giusto E quindi sto cercando Ho già trovato lo zombie Ora devo provare Ma sì è emozionante Ciao Ti riaspetto a casa Allora Rospa e ruspa Andiamo su un altro carrello Così ti faccio vedere la strada No Siamo poveri Ma avevamo un sacco di carrelli Una volta Di aver rubato il Leo Ci sono stati un po' di Di ahum ahum Mi sono Ok Allora E sono sei Vai vieni pure Vai fammi vedere Vieni pure Così ti insegno tutte le cose Tutte le cose Da dove parte? Da qua dietro C'è Adesso è un atto Più che altro Perché se vi accomoda a noi Poi magari le facciamo anche qua La risistemiamo Allora La fermata Della serie Sì Esatto Prego Entra pure Ok Adesso ti faccio vedere poi Come funziona la fermata Praticamente Quando arrivi la fermata Che vabbè È casa di Di metano La prima Esatto Si ferma Tu devi pigiare il pulsante Che è sulla destra E premere W per andare avanti Riparte Ok E questo lo state facendo Per tutte le case Adesso è tipo No Per ora è Circonvalla questa Esatto Poi faremo Le fermate Per tutte le case Ecco lì Ti premiamo tutto W e pigia il pulsante Ok Ok Altrimenti sarei potuto scendere Esatto Avessi voluto Mica ma che bella è È Ha visto i mattoni Ha visto i mattoni Di pietra Questa fermata Questa fermata cos'è Invece È la galleria Visto che dovevamo lavorare Abbiamo messo una fermata Ah ok Perché ci serviva Però ok Eh sì Le lezioni È bello spiegarlo Poi dopo ve ne parlo Ma la galleria è stupenda È passare da sotto Tanta roba Eh sì Anche perché sopra Non potevamo Quella è casa dei mates Sì Cioè casa nel senso È È la prigione dei mates È il campo Attualmente Esatto Il campo di rieducazione Dei mates Il campo per ragazzini Che non si sanno impegnare abbastanza E che hanno bisogno di più E questa cos'è? Di stimoli E questa è l'altra galleria Ah ok Quindi casa fermata È la casa di pranzo Eh no Più che altro perché Dovendoci lavorare È brutto Cioè abbiamo bisogno Della fermata Capito? Certo E quindi tutte le volte così E questa è l'altra galleria Poi ci sarà Vedi qua c'è la fermata sul mare Ok Ah per l'estate Ok Esatto Faremo la casetta sul mare qua Giustamente come La dependenza Famiglia Benetton quali siamo Abbiamo la casa sul mare Certo vero Qua dobbiamo Fizzare tutte le gallerie E niente Poi vedi si fa tutta Si La circonvallazione del Come si dice Del mondo Così non diamo fastidio a nessuno E chi vorrà l'allaccio Lo faremo Però c'è Ma che giudo è Questo Questo Qui potresti fare un sacco di fermate Tipo Alassio No Tipo la Liguria Che è tipo tutte le città di mare No Eh Qua devo fare ancora L'altro senso Per cui lo scrivono tutte le Le rotaie Poi basta Adesso non ho messo altre fermate Però poi le metteremo E dove finisce? La situazione mattoni non è gioiosissima Come Bertra? La situazione brixton non è stupenda Eh qua E servirebbe Siltac Eh A me c'è lo Siltac Ma ci abbiamo il villager Con Siltac Non è vero Lo ficchi nel piccone Hai fortuna nel piccone? Io si No non ce l'ho No 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 Allora puoi farlo Fatti il piccone di diamante con Siltac Così non serve neanche cuocere Ma no Ma quella è casa di Di poldo Ecco Qua c'è casa di poldo e lo spawn Esattamente come C'è troppo sta roba Eh è bella Cioè è un po' lunga È bella esatto E niente Basta Comunque poi si dovremmo fare Quando andremo nel land La Salerno Reggio Void Vabbè faremo l'autostrada ovviamente Anche E anche del nether Dobbiamo fare l'autostrada No ma sta roba è fighissima Comunque Tanta roba GG Grazie grazie Contento ti piace Vado a farmi le pozioni Però tanta roba Famiglia Benetto Mi sa Ma scusa ma chi è che si candida di voi Come presidente Io come rappresentante Però ovviamente Rappresento la famiglia Non sono io come singolo Ok ok Ma state lavorando bene nel server Quindi tanta roba Cioè avrete il mio voto Mi sa A buon rendere A buon rendere allora A buon rendere Perfetto Ciao ragazzoni A dopo Ciao rosy Arrivederci Arrivederci Hai visto Bert Mi hanno guadagnato un altro voto Mamma mia E anche tanto Oro Molto bene Quanto? Tanto quanto? Ah beh sì Ce ne ha dati Settante qualcosa Quindi easy Ci lasciamo un bel po' di rotaie Con questi Grazie Tante simpatiche Gustose rotaie Scambiare con il fabbro Il ferro che ci serve Il fabbro ci dai il ferro? Se ci fa ferro per Smeraldi Oddio sarebbe tanta roba Effettivamente Tanto Smeraldi Ce li facciamo easy Poi dipende anche quanto Ciao Fieric Vabbè non ci vuole tanto Ecco qua La Salerno Reggio Void Abbiamo ufficialmente finito il ferro Bert Mamma mia Incredibile Tocca andare in miniera No no Cos'è la miniera Io non ci vado Scusa Non ho capito Ma che cazzo Di fosso è Allora qua Prima mi hanno chiesto Se spiego la storia Delle elezioni Cadete? Mi hanno chiesto Prima in chat Se spieghiamo La storia delle elezioni Alla presidenza È un discorso molto complicato ragazzi È abbastanza Sì infatti Semplicemente ci saranno Semplifichiamola Siamo tutti felici Ci saranno le elezioni Del presidente Magnifico presidente del server Esatto Quando e come Non si sa Però so che ci saranno Prima o poi Prima o poi Il problema è mettere d'accordo 15 streamer Per fare La live tutti insieme Che sarà Un problema Esatto Bert Sei pronto E andiamo a scavare il ferro Che non abbiamo più Madonna Come i vecchi tempi Mamma mia Come quando eravamo giovani Eravamo i benettonini Eravamo le bettoniere Le bettoniere Aspetta che qua È un buttanaio Fra Comunque sì Sono semplicemente Elezione alla presidenza Del server Però Non siamo ancora pronti Non siamo pronti Né fisicamente Né psicologicamente Soprattutto Ok Devo pensare Al rubinetto Per la cucina È ufficialmente Finito Il ferro Completamente E anche le rotaie Proprio non c'è più nulla Piangete per il ferro Le rotaie Piangete Non abbiamo più un cazzo Ragazzi Non abbiamo niente La famiglia benettoni È ufficialmente Povera in culo Piangete Olè Ecco qua Io ho finito anche I mattoni I matti veri I matti grandi I mattoni Olè Tutti che piangono Perché non metti Silk Touch Sul piccione Sul piccione Sul piccione Oh yes Il famoso piccione Con Silk Touch Vai Intanto sto trattando Sto trattando Sì Ma che eroe Li abbiamo Quindi insomma Anche questo è Assolutamente vero Ok Piangete Aska grazie Semi Spentano Il sistema elettorale Che limiti fortemente O escluda Completamente La rappresentanza Della minoranza Mi piangono tutti Tantissimo Certo certo Assolutamente Aska Grazie Quala Per due mesi Bentornato Coccobello Sei mesi Polonpad Grazie mille Del sub Grad Grazie mille Dei tre mesi Basta Angrazzato tutti Ma c'era un suono Della Due suoni Della ruspa Ragazzi Scusate Se non li ho fatti Sì Simonin Praticamente devi scrivermi Ecco qua Il numero Della carta Di credito Della mamma La data di scadenza E i tre numerini Sul retro Scusate Se non ho fatto prima Non sono in moda Ricordarmelo Secondo te va bene Come metodo Per far entrare la gente Certo certo Anche il codice Quello dietro la carta Mi raccomando Sì sì Gli ho detto I tre numerini Molto importante Beh ovvio Senza Senza cvv Tieni guarda Ti regalo questi Bertra Ma lei è un signore Veramente Mi riempie di gioia E di felicità Ho dropato un po' di roba Ho visto ho visto Apprezzo la roba Ma io lo stonecutter Me lo porto di là Onestamente E dove cazzo è finito Allora Bertra Dobbiamo prendere il ferro Te lo sei ciulato tu Lo stonecutter Vogliamo con Io Oddio sono passato No non ce l'ho io E allora dove cazzo è andato Sarà cascato dietro il muretto Ok No Non c'è Io non ce l'ho Ma Non piangere Valev Ma non What Ah no Mi è spawnato nell'inventario Ma questa è magia Questo è il server lag Tipiri Tipiri Allora Serve il ferro Bertra Come facciamo E adesso ci tocca andare De sotto Io vado a venire A ultimare un po' di muretti E poi di muretti Comunque mi ha scritto Mi ha scritto mollura Ha detto che vuole trattare Con i libri incantati Quanto vuole trattare Adesso vediamo Ha detto vuole trattare Dobbiamo Far a mo Ah scusami Non sono sul roleplay Eh no 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 Ecco Allora Signor mollu Vogliamo trattare Per questo Per questo ferro Vorrei trattare Per questi libri Incantati Bene bene Certo certo Come puoi ben capire Intanto Certo certo Come puoi ben capire Noi stiamo costruendo Un'opera per tutta la popolazione Quindi ci serve Tanto tanto ferro E possiamo dare In cambio libri Incantati Principalmente Che tipo di libri Allora ti dico Sto andando a casa Subito per vedere Cosa abbiamo Poi tra parentesi Quando riusciremo Ad arrivare a casa vostra Con Con la nostra Bellissima autostrada Ok Potrete venire direttamente Da noi Con un semplice carrello Che sarà molto più figo E molto più facile Esatto 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 Allora Vediamo un po' Cosa c'ho qua Eh prima o poi Sì avremmo finito Se ne servirà Forza lavoro Uno di questi giorni Mi offro volontario Va bene Ok Volentieri Allora Cosa abbiamo qua Uh cazzo Però un breaking L'ha curato Leo Quello con un breaking Quindi Un po' un problema Lui che c'ha i prezzi buoni Eh lui c'ha i prezzi buoni Su questo Io non tanto Allora Qua ci abbiamo Efficiency 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 4 Ma è un attimo Trasformare Efficiency 5 Abbiamo Ripristi Abbiamo Mending Abbiamo Anatema Il flagelo Degli antropodi Non penso che Vedete che un cazzo Che fa schifo Sì no Non si permette Di offendere Il flagelo Degli antropodi Fa abbastanza cacare Abbiamo Impallamento Abbiamo Vediamo se ce ne sono altri Qua è pieno di Billice Abbiamo protezione 4 Protezione per proteggervi Tutta la vostra armatura Se volete Buono È molto importante Abbiamo infinity Abbiamo looting Abbiamo knockback E basta Principalmente questo Ok Quanto vi serve di ferro E quanto vendete i libri Allora Di ferro In realtà ci sarebbe Proprio Il più possibile Perché le rotaie Sono pressoché infinite Che dobbiamo fare Quindi Ok Noi adesso Abbiamo 4 stack Da 64 Che non è assai Lo so Come offerta Però stiamo finendo Di costruire la miniera Va bene Tutto fa brodo In realtà È abbastanza Sì Cioè è molto Però considerando Quello che dobbiamo fare Poi finire anche quello Ma va bene Certo Allora 4 stack Di ferro Sì proprio ingot Non blocchi Ok Sì beh Ci mancherebbe Allora Vabbè Dici intanto Cioè quali sono Gli enchant Che preferisci Ah non lo so No Abbiamo anche spine Perché una Pussi da solo Non è capace Ha detto Ha detto che si Vergogna un po' E fa bene Fa bene Ok beh Giusto così Allora Vediamo un po' Allora Voi siete in due Maggio Allora vi prendo Vi faccio un'offerta Per quelle 4 stack Allora Adesso controllo Tutti i libri Che ci abbiamo Per caso ti interessa Avere spine Sull'armatura Adesso Adesso ti dico Quello che abbiamo noi Un secondo Allo Allo Dov'è Allora Merlino È qua Merlino Allora Unbreaking 3 E acqua affinity Poi Fammi vedere Marco Il calzolaio Su di sopra È arrivato Nova Perché c'è Nova Qua da me Tu dove sei? È io a casa È Nova è venuto qua Eh Forse sta allungando È arrivato Nova È arrivato Nova Buonasera 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 È arrivato Nova Incredibile Nova stavamo trattando Serve il master Master Di prematura Allora Di prematica Allora Qui Cosa è che sono offerte Se non mollo Cosa hanno offerto C'è protezione Che non è male Eh Protezione Protezione potrebbe essere utile Vero Perché il resto Mi sa che abbiamo tutto Nova Infinity per l'arco Ce l'avete? Mi pare Sì Mancherebbe protezione Mancherebbe Sì Ok Volete per caso Anche un po' di spine No Volete solo protection Vabbè Si fa protection Non è un problema Andiamo a prendere Un po' di protection Vai vai Prendi i libretti Io direi Avete Avete pure libri un omaggio Come sempre Allora In omaggio In omaggio dai L'omaggio ci può stare Allora Vai come ci stiamo Allarghiamo Sì sì Scusa come vanedicolo C'era il regalino C'era quasi un omaggio Va bene Allora Andate Però l'omaggio Potete darcelo anche voi Siamo in obbligo a dare Che cazzo Anche voi state scambiando Ah Le ricordiamo ancora una cosa Fra poco c'erano le elezioni Quindi potrebbe votare per noi Beh Che dire Strunz Allora Venite Venite di qua Cioè Venite C'è solo Nova Il signor Mollo è sparito Allora qua ci sono tutti i villager Allora qua abbiamo protection Protection 4 Abbiamo detto Non abbiamo libri Bertra Abbiamo dei libri Eh ce li ha cazzo E Leo che sa dove sta tutta la roba Ce li ha Ce l'ha il cazzo Leo ha il cazzo Sì Aspetta Aspetta E adesso avrà anche il Gabibbo Tatuato sulla schiena Incredibile Bello Eh sì C'è la mia ragazza che sta tatuando l'Eve Si sta tatuando davvero il Gabibbo Sulla schiena Qua sta succedendo? Un pazzisco A posto Ma sarà meglio Anche bella casa Bella casa Non bella quanto la nostra Però carina Non posso immaginare come sarà la vostra No l'ho vista io Non l'hai ancora vista Eh Vuole fare un tour veloce Vuole fare un tour veloce È mediocre Dai È un po' una casa da 2013 Minecraft Ma come ti permetti? Scusa Ma per due un secondo Ma quando? No no Questo affare non sa da fare No però il signor Fieric non ha detto nulla Quindi Non ho detto nulla Io mi interdio un libro adesso in realtà Eh Sto cercando dove cazzo sono Mi sa che Leo li ha rubati tutti Noi siamo qui per contrattare con Il capo Benetton Ecco qua Ma non c'è un capo Noi siamo un'entità unica Siamo come una creatura mitologica a tre teste Siamo Siamo forse E ci piace anche ritrovar Esatto Ci piace ritrovarci tutti intorno a un tavolo E chiacchierare di cose che non ci competono Un attimo vado a prendere dei libri Arrivo subito Mucche di merda Riproduceti adesso Perché è arrivato Gervaso? Fieric hai liberato il mio cane Chi è che l'ha toccato? Io non ho fatto nulla Secondo me è stato Nova Che è qua che si è avuta a casa Nova? Ne sono abbastanza convinto Io sto aspettando Sono qui Perché sei liberato Gervaso? Ma poi liberò il nostro hotel il cane Penso Eh ma non Non l'ho fatto Allora Non bisogna toccarlo Allora questa è la mia offerta Tanto ha mangiato tutte le mucche Sì purtroppo Vengo Ma questo Ma Ma siete in regola qui? Certo Vuole che lo porti a casa Così fanno una visita da noi E le mostriamo un po' tutto Va bene Adesso vengo a casa Un attimo che Allora La nostra offerta Per quelli quattro stack di ferro Sono Sei libri Protezione 4 Due Infinite Io metterei anche un Un torn Uno spine Uno spine È un euro a piacere capo Esatto Che c'è lì ai 50 centesimi per andare a Bologna Uno smeraldo a piacere capo Uno smeraldo a piacere Per il parcheggio Per il parcheggio Un attimo signori che sto Che tengo le creature Non vorremmo mica che si rovini l'auto Ci mancherebbe Un attimo che sto creando i vostri libri Quali tende cazzo E qua si fa tutto al momento Tutto fresco ragazzi Tutto fresco Che senso C'è un albero con delle finestre È vero Ma anche con Leo dicevamo che dovevamo fare la seconda entrata Che inizia ad espandersi Ma sono tutti sti versi Ok quindi cos'è che vi serviva Permesso Intanto Ho detto protezione Nova chi era con te quando C'è stato La grande caduta La grande caduta Nel fosso Lei non sa Signor Frey Che è successo Quando stavo costruendo Il bellissimo fosso A un certo punto Nova è arrivato Con delle proposte di mercato E con dei suoi compari Ero io Ero io Ah ok C'era anche Chi altro c'era? E Gianco Io a un certo punto faccio Ragazzi state attenti Al grande fosso Quale grande fosso? Tuk Uno cade Tuk Un altro cade Quale è il grande fosso? Scusa Berti Non lo conosco Come no? È il grande fosso Fieric Io so soltanto del chunk che hai scavato È il grande fosso Ah è quello il grande fosso Ah Sì Giusto State molto attenti signori Molto attenti No adesso è stato ricoperto con il vetro È diventata un'attrazione turistica Ok Dunque Avete detto cos'altro vi serve? Gentili signori Dopo protection Spine Sì Tors Grazie Spine Guardate Avete portato le quattro stack E ho portato direttamente i 28 blocchi di ferro Onesto Onesto Guardate qua quanti bei libri che vi diamo in dono C'è in dono Oh la madonna Ma scusa ma li ho rubati questi libri? Mi scusi Noi non rubiamo mi dispiace Noi siamo la famiglia Benettona Al massimo Noi al massimo sfruttiamo Esatto Madonna Tutti i suoi Grazie Lei è molto gentile Lei è molto gentile E Rotaie gustose rotaie Adesso però dobbiamo fare E dobbiamo fare altri villager E poi magari Ecco Questo qua è un extra per voi Prego Così potete divertirvi Con questi bellissimi blocchi Adesso basta però Non abbiamo più C'è per caso anche dei diamanti in più Nel caso avanzassero Non so Abbiamo i diamanti ma non sono in più Ci dispiace Tanto vedo che A lei e signor Nova non servono Perché tanto va in giro nudo No sono vestito di marca Mi scusi Ho le Jordan Air A me non sembra tanto vestito A me sembra Sì 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 Sono Brago Louis Vuitton Eh sì E una felpa Sono un po' anche strappate però Eh sì sì Ma è di marca Ma è la moda del giorno d'oggi Sì 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 È la moda del giorno d'oggi Non lo so Non lo so Se vuoi la accompagniamo a casa Va bene dai Andiamo a vedere casa Mi sembra un'ottima idea Si scende da qua signori Per favore Venite L'uscita di emergenza Ecco fatto Molto comoda Un attimo Ci abbiamo un attimo Dei clandestini Disturbatori Andate via da qui Famiglia Benetton Non accende Sì sì Questa cosa Questa cosa non va bene Sì no Fieric No Non va bene E lei si sta candidando Mi scusi Ok no Andiamo 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 Da che lato è casa vostra Gentilissima Di qua Basta quello il fiume No Non è vero Di qua E quello è l'altro fiume Ci sono dei litigi sulla No No c'è un altro fiume di qua Ma mi scusi Ma quel portale di chi è È di qualcuno Che è stato Non lo è Onestamente Che portale è Vicino a casa nostra Sì Quello rotto Mi pare che sia di qua L'altro fiume Vicinissimo a casa Oh merda Allora è Leo Che è uscito dal nether Nel solito portale Ed è uscito lì Non si sa perché Ma dov'è casa nostra Mi sto perdendo È di qua Ma di qua Di qua Di qua Di qua Di questa parte Questa parte Si parla Ci si perde Che è una meraviglia In sta foresta Dovremmo sistemare Anche quello Più avanti Disboscare Disboscare Mi diamo un accendino E risolvo tutto io Ma quanti cazzo Ho risolto No Fermi Nova punta spilli Guardate lì Che meraviglia Aia È uno spettacolo Ti stai perdendo Nova che scappa Da tutti Senza armatura Guarda lì Quante Aiuto Ragazzi Nova che soffre Non vorrei perdere Te lo sei perso Purtroppo Vai 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 Muoviti Velazzo 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 Non ho il barco Venga con me Di qua Di qua Venga Ok Un vero peccato Un vero peccato Perfetto Let's go La parte della nostra casa Che è collegata col fiume Quindi è un collegamento Molto veloce Sì Serebbe un'autostrada Purtroppo Dobbiamo farla al contrario Io sono più per i passaggi via mare Che autostrada Sono un po' contro L'autostrada Lo so Per questo Siamo rivali Nella presidenza Già vedi Quello lo fico in realtà Assolutamente Nessun motivo politico È in questa cosa No 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 La politica La lasciamo ai politici Va bene Ma siamo più nel popolo Non so se lei sa Ma abbiamo aperto Un'agenzia di investigazione Qui Investigativa Ok Quindi per qualsiasi caso Problema può venire da noi Resolita in qualsiasi caso Efficienza Solità Velocità E professionalità Soprattutto Scusi C'è un Dell'investigazione Da dei politici Sembra un po' No 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 È un'agenzia Siamo io e Già Pimoldo Quindi se volete È un po' da collusi Questa cosa Ok Se volete quando siamo aperti Quindi ok Qua non si può entrare Giustamente Va bene va bene Se avete qualche caso Affidatevi a noi Ok E da quel momento in poi Saremmo aperti Questo cos'è un ponte tibetano Si inciampa un pochino signori Ah è carino Siamo nel bioma di Fion In questo momento Come vede questa Come vede questa Da casa Fungualbero Ma si può visitare Se vuole Voi siete entrati Voi siete entrati In casa nostra Quindi sembra il minimo Giusto Soprò un po' L'occasino Ok Sarà diventare un villaggio Airbnb doveva essere Esatto Deve essere modificato È un po' un casino L'hai fatto vedere Ah ok Per nuova da e-Marin Vi hanno regalato Delle cose Controllo I vostri villager Cos'hanno Mi scusi Sono Orroco2 Mi sto un attimo Disturbando Lo so Lo so Così che funzionano Queste parti Ma li sta svegliando Mi scusi Stanno pagando per un servizio Di Massimo silenzio C'è capito Berta da loro pagano Da noi invece Li sodomizziamo Esatto Esatto Qui è tutto in regola Tutto in regola Siamo qui Se vieni sotto In realtà non è finita La casa La casa Alberofungo Con ispirazione A cappella Sistina Vada vada Prego prego Va bene Qui abbiamo la mappa La prima mappa Che c'era nella giornata E sarà così per sempre Quindi come era il mondo Inizialmente Molto bello Grazie 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 E qui sotto In fase di costruzione Questo è il magazzino Fatto da me È molto estetico E costui chi è Fatto da te Questo Fatto da te soprattutto Scusi ma Completamente Da inizio a fine Fatto tu questo E Allora 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 Ci sono dei litigi Signori Vorrei una domanda Ma voi che avete Tutti in regola Come mai questo qua È chiuso in cantina Ma non importa Andiamo avanti Capito Bertrand Lui hanno la stanza sopra Come tutti in regola Allora E poi danno uno chiuso Nell'angolo sotto casa Ma non importa Non importa Non importa Eppure questi Immagino sia in regola Sì 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 Tutti in regola BRB ha pagato anche lui È talmente in alloggio Sì Quanto ha pagato questo qua Per chiedere Ma più o meno Tra le 40 E 50 pesetas Ok Molto bello Molto rustico Devo dire Molto poco trattato Questo posto E qui però Ad ammetto che È esticamente bello Sì 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 Camminare Ma la parte migliore Ma questo è Jesse Vito È vero È vero La parte migliore Che deve essere finita Ancora È sotto Ritter di merda Non si può neanche trattare Con questo tizio qua Eh no È un po' Un po' silenzioso Ok Questo Sembra Jesse Pinkman Nell'ultima stagione Di Breaking Bad Ragazzi Tra l'altro Le faccio ascoltare Un'it in esclusiva Se vuole Sì Faccio ascoltare Ma che cazzo Ma siete amanti Della musica Molto bene E deve partire ancora il drop Ah ok Meno mai che non ho La mia texture Nella Napoli Craft partiva la tarantella Ecco là Eccola qua Ha sentito Molto bello Molto bello Bellissimo Bellissimo Anche noi abbiamo le hit a casa Che ci penso Abbiamo due dischi Abbiamo dei dischi Abbiamo ora La parte migliore In fase di costruzione Posso rubarvi questo ferro Ve lo devo lasciare Prenda pure Prenda pure Sarebbe molto interessante Lo replace Prenda pure Oddio Non mi sembra Cos'è la casa La casa dello studente Questa Qui al sud Le costruiamo così Ah capito 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 Non sapevo Sotto E' ancora in fase di costruzione L'architetto sono io Molto bene Renzo Mollura Ok Renzo Sì E' ancora in fase di costruzione Però insomma Queste sono le miniere di Moria Orfei Ostia Bello A che altezza siamo? Altezza 11 La mia preferita Molto bene Ottimo stile Posso darvi un consiglio Qua rompere anche a destra e sinistra Per aumentare l'efficienza Dello scavaggio Aiuta molto E' arrivato il professionale di sinistra Incredibile Esatto Va bene Molto bene Grazie mille Allora per il ferro Non ce l'ho questa Ah si Ce l'ho anche questa feature Bello Non sapevo avessi questa feature Che feature hai? Possiamo sederci Sugli scalini Sì Basta che siano completate la fine Ah ok Quindi a modo di divano Tipo per i provini Esatto O per i cartelli lateralmente Ah questo lo sapevo molto bene Mi piace questo Va bene Allora torno alle mie mansioni Ah si c'è un'ultima costruzione alta Che ne mostriamo Va bene Ultima cosa Va bene Questa invece è la parte più brutta Della nostra cittadina Come le posso dire Che è la più brutta Ah ok Vengo con me E la casa del signor Zampitech Ah beh Sì Ah come vedi qua Ah questa è la casa Noi abbiamo ancora fatto vedere la serra però Per fortuna Ah è vero la serra Poi le mostriamo la serra esatto Questa è che se la porta la casa del signor Zampi Vediamo un po' la casa del signor Zampi Cos'è un bungalow? Mi piace No è una casa ristorante Tutto Ho capito Ho capito Però quanta roba qua Esatto esatto E' molto carina Qui fa pizze Sì Baghetti Sì Anche le arniatele sono incluse Sì Scusate Non ancora buone Non pulisci da un po' Quindi Eh sì 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 Magari più avanti offremmo anche il servizio golf Per adesso non ce l'abbiamo ancora L'ultima trattazione invece come vedete giù in fondo C'è la casa di Janko Che lui è la sua ragazza Ah pensavo fosse il set di provvini di Johnny Seeds Non è dentro il server Quindi lui già ce la ricorda Sembra più senso in realtà Sì effettivamente è vero Sì E la giù in fondo a sinistra come vedete c'è la serra Ah questa è la casa? Eh sì No in realtà è solo una costruzione che ha fatto lui Essendo gran fan delle build battle Ah ok Non so se lei è studiato su questo accordo No non sono molto studiato Mi dispiace E invece l'ultima trattazione come vedete giù in fondo È la serra Ah Devo fare una barca Anzi no Non serve non serve È collegato È collegato È collegato È collegato Però dove puoi tornare a casa Ovviamente i gentili signori mi offreranno una barca Per tornare a casa Altrimenti Sì 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 Nessun problema E questa invece la sera Ancora in fase di frenizzazione Però al suo stile Al suo stile Al suo stile Ok Sono in regola queste api? Sì 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 Tutto in regola Tutto in regola Tutto in regola Se vede Se non ci sono delle macchie bianche Non si faccia domande Ah no Esatto No capisco Va bene Non Guarda Anche noi con gli animali Abbiamo un ottimo rapporto Vede Vede che Nova Sta piangendo Si faccia due domande E si dà due risposte Va bene Allora signori Io prenderò la barca E tornerò Arrivederla Tornerò a casa nostra Per completare poi Il servizio Arrivederci Arrivederla Arrivederci Bertra come sei messo? Sto tornando a casa Bertra mi sa che sei mutato Come sta andando qua La trattativa? Bene bene Ho portato a casa Un bel po' di ferro Ci hanno fatto dire Casa loro È molto bella Devo dire che secondo me La città sull'albero È più affascinante Ma vabbè Dipende dai gusti Ma sì Sono gusti Cioè alla fine Ognuno ha diritto Ad avere i propri Cattivi gusti No? Onesto Wait Grazie Gabriuz Per il Prime Gicon per il Prime Sono Yuri per il Prime Benvenuti ragazzi Benvenuti Io qua Cioè sto Sto andando avanti Con le entrate varie Molto carine Le gallerie Ok Qui ci stiamo Divertendo Opla Poi un giorno Potremmo costituire I muretti Con i muretti Fatti meglio Però Con calma È già un passo avanti Questo È già un bel passo avanti Assolutamente Assolutamente Il treno Frecciarossa Nel caso Ciao Fieri Sto arrivando Bertra Vieni Vieni Quanta strada Che mi hanno fatto fare Madonna Tutta in barca Poi metà piedi Metà in barca Cioè Meno male che c'è gente come noi Che offre un vero servizio A questo paese Ma come si fa Che si Eh ma si vede chi viene col barcone Chi viene invece con l'industria Modestamente Con l'industria pesante Esatto Ok Dammi l'exp carbone Yes Va bene Finito tutto questo ambaradà Ci sono Sto arrivando Io sto mettendo Un mattone Abbiamo tantissimo ferro adesso però Che mi ha reso molto contento Sei contento del ferro? Molto Bene Arrivo Venga Venga Signore No ci stanno abbandonando tutti Siamo io e te Nel server Ah Questo è un bel server multiplayer ragazzi Esserebbe il momento giusto per andare nella farm Effettivamente Madonna si Ah Franz è tornato signori Oh niente Finita l'intimità Peccato Grazie Koala per i due mesi È tornato Davide Sama per i due mesi Bentornato Grazie dei sub ragazzi Gentilissimi Dovremmo invitare altra gente poi Nel server Siamo in 15 E Dentro siamo in tre Eh vabbè Non è un orario azzeccatissimo Questo devo dire Oh è pomeriggio Perché no Però io preferisco così Meno gente c'è Più spettatori faccio Quindi Strategie di mercato Signori Strategie Guarda che quando non ci sei Arrivo a mille Cazzo Ah quindi colpa mia Sì sì Tu mi ciuli il mercato Perché Cioè io ti ciulo il mercato Dipende da come la si vede Quando non ci sei I tuoi fan Che vogliono vedere minecraft Si congiungono a me Nell'estasi suprema Dell'amore Facciamo Gli spettatori È tutto pensato Molto bene Arrivo Bertra Sa che Ha spostato delle sedie Eccomi Sto arrivando Dove sei Dove sei Non ti vedo Ti sono mancato Ma guarda Devo dire Non particolarmente Però Vado a completare La seconda Ferrovia Quella per tornare a casa Molto comoda Quella Arrivo Arrivo Lo sappiamo che con Silk Touch Sarebbe più comodo Però che sbatti Silk Touch Dove si torna a casa E prende Non ci vuole tanto Ma non ho voglia di metterlo sul piccone È bello Ma dai Ma è comodo Silk Touch Stanto non devi mettere Ma efficiency 5 Unbreaking 3 Eh E basta E mending E mending Al piccone ci si mette O fortuna O Silk Touch Infatti Io vorrei fortuna Silk Touch Poi non lo posso usare Per Per un cazzo Di niente Vabbè Ma abbiamo 150 diamanti Bertra Te ne fai un altro Bertra Bertra Comunque è vero Comunque è vero Quando non ci sono gli altri Ci sono più viewers Io adesso ne ho 3500 Bella madonna Benvenuti ragazzi Esagerato Tutti i viewers degli altri Ah ho rubato i viewers a Parinz Oh sì Abbiamo rubato Adesso invito ovviamente la gente Anche ad abbonarsi gratis Con Amazon Prime O pagando 499 Esatto esatto Amazon Prime Eh Oppure non siate poveri Dipende Bullismo questo Finalmente potete godere Di una live di qualità Ragazzi Approfittatene Abbonatevi anche Esatto Fai un altro piccone Dite Eh Non avrebbe unbreaking Quello Che dramma tutto Vabbè La prossima volta che vado a casa Ci metto sto cazzo Di silk touch Così smettiamo Eh Sì 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 Abbiamo anche unbreaking Abbiamo quasi tutti Gli enchant Bertra L'unico che non dobbiamo È fortuna Sai chi c'è la fortuna Leo No Ah no I nostri I villager Eh I villager di Di Nova E No No Eh sì Vabbè ne troveremo altri Di migliori noi Tale è il nostro destino Ecco qua Grazie Ramontone del Prime Il salo del Prime Lancer del Prime Benvenuti ragazzi Benvenuti Dobbiamo ancora scegliere Il gol per i 5000 sub Ragazzi Poi lo scegliamo Promesso Lo scegliamo E dico subito Che ci sarà un gol figo Quello è poco ma sicuro Attualmente siamo 4175 Oh precisissimo Siamo 4175 Quindi Diamoci dentro Ne mancano 800 Let's go Va che bello Anche questo coso Di mattonazzi Qua l'ho lasciato un po' Hai fatto bene Ineguale Così Hai fatto anche Ma hai fatto anche Qua sotto C'è la seconda galleria Sì sì Ho fatto tutto Vediamo un po' Com'è uscito Ci sono giusto le uscite Che vanno fatte Eh le uscite sì Bertra devi mettere Devi mettere Le scale Qua sì Lo lascio a te Sei tu l'esperto Delle scale Io non Non mi fregio Di tale titolo Sono l'esperto Delle scale Un ottimo titolo Un esperto Scalatore Sociale La furia di fare Lo streamer Su via Cazzo qua Va allargato Tutto Di una botta E mezzo Eh le avessimo Le scale Le avessimo Vabbè Un'altra volta Adesso Non ne ho voglia Ah Eh che cazzo Lavoro dunque Signor Penny E siamo a tre Grande Fievic Eh sì Pao Pao in otto Grazie tre mesi Bentornato Bentornato Ho sentito Un altro Zombie villager Bertra Cattuvalo L'ho sentito Di qua Vieni Ma come vieni Io sono altrove Che metto muri Sì ma datti da fare Che cazzo Eh mi sto dando Da fare Immagino Sto chiantando muri Giù che è una meraviglia È qua sopra Bertra Eccolo Lo sento Lo sento È qui No vedo Non lo vedo Ancora Però lo sento Zombie villager È qui presente Dov'è Dov'è La lava Vicino alle nostre rotate Eccolo Come sta andando Col tuo zombie villager Sto cercando di ficcarlo Dentro la barca No eh Non annegare Ok Ma come Dove sta annegando Molto bene Eh però Serve anche Il tuo aiuto Qua Arspe Arrivo Oh cazzo Sto crepando di fame Ok Adesso l'ho messo Sotto il ponte D'autostrada Così se viene giro Non muore È un passo avanti Ed è un passo avanti Indubbiamente Assolutamente È un passo avanti Mi congratulo con lei Per Per il passo avanti Sì sì È un passo avanti Un passo avanti Del passo avanti Con un passo avanti Ok Allora torno a casa Prendo il necessario Per dargli Il caldo Trasformante Oh cazzo Mi sa che non abbiamo più oro Però Tutto quello che avevo preso È già finito Per le rotaie Ai 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 Ci sono delle mele d'oro Nella Nella cesta Della seconda galleria Non so perché Ah sì Perfetto Sì Va bene Adesso Senza ragione Ma ci sono È vero Mi sa che l'ha messa Leo per pigrizia Ci chiedono Se non possiamo Farli accoppiare I villager Sì Sì Però Ecco le mele d'oro Però Non hanno Così almeno Ci abbiamo quelli scontati Esatto Curandoli Siamo più bravi Esatto 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 Allora Cioè io ora ho fatto questo Con lo scaffo Devo allargare ancora di più Perché sono un matto Un matto furioso Sì un mattone Sono un grande mattone Un grande mattone Vado a prendere la pozione di weakness E torno Vada vada Faccia ciò che deve Grazie Kalatz 25 mesi Bentornato Naverix Army Bravi ragazzi Se riesci a portarmi Anche una pala Di diamante Bella madonna Ma perché non hai La pala di diamante Perché mi si sta Spaccando in questo momento Ah Mending non ce l'hai Sopra la pala No Cioè Ma allora Bertrand Molto male Unbreaking Almeno ce l'hai No no Non è incantata Questa pala Ah E allora Eh ma era la pala Da Lì quando ho fatto Il chunk È tipo L'ottava pala Che ho usato È la pala Della disperazione Questa Bert povero Il Bert pala Il Bert pala Allora Ti faccio un'altra pala In diamante Molto apprezzato Ragazzi Non ce l'ha manco Inchantata Che povero è Eh Si fa quel che si può È vero Dovevi creare l'ascensore Sotto la casa Di villager È quello assolutamente vero Adesso appena arriva Anche Berta Lo facciamo Beh allora Finisco giusto Cos'è Uno stack e mezzo Di mattoni E poi torno E abbandono Il Il progetto Per ora Ah il mio bambino Il mio eco mostro Quanto è bello Allora Pala fatta Poi Ah sì La pozione Beh beh Puoi mi dare una mano A portarlo su Eh Mi raccomando Sì sì Lo so Dimmi quando serve Io torno Nel momento Io sono qua Che metto muri Vorrei mettere Anche soffitti Ecco La pozione È già pronta No È scoppiata La pala Sto arrivando Berta Arrivo Poi poi Incantala Per favore Sei troppo povero Scusami Abbiamo Abbiamo tutti Gli enchant Letteralmente Soltanto È pura pigrizia Ma dai Meno gli strumenti Incantati Berta E poi Lo faccio Arrivo Venga 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 Altre fermate Comunque Poi le creerò Che cosa? Altre fermate Ah Più avanti Sarà la fermata Del boschetto Minca Che merda Quella foresta Lì Con l'autostrada No Dai È panoramica Non so perché Ma non si vede Niente Eh vabbè Daremo fuoco a tutto Allora Esatto Già mi piace di più Chiamatemi quando volete Dare fuoco a qualcosa Che è il mio lavoro Hai bisogno di mattoni di pietra? Sì Tutti quelli che hai Sì Ok No Ho finito i mattoni di pietra I mattoni di pietra? Grande dolore Abbiamo finito i mattoni No I grandi mattoni di pietra? No Arrivo Bertra Arrivo Dove sei? Non ti vedo Sto facendo tutta la strada Qua Mica comunque Fare La discesa per i marini Sarà la più difficile Quando dovremmo fare Poi Quando vinceremo Le elezioni Soprattutto farla non completamente oscena Esatto Quella sarà la parte difficile Ma vedremo Vedremo come fare Ci fare Ci avaremo Ci avaremo Eccomi A farla tutta Tieni Bertra Guarda qua Dammi Cospargimi di mattoni Oh sì Come piace a me Ma qua c'è del ferro Molto bene C'è del ferro da mettere a cuocere qua Sette Non è molto Ma un lavoro onesto Sì ce ne sono anche di Giacomo Cotti che ho messo io prima Oh tieni Bertra Ho visto c'è l'altra pietra Te l'ho droppata Lei è veramente gentilissimo Vado La pala La pala Brutto Oddio La droppo qua Tieni ciao Dove cazzo l'hai messa È in mezzo alle rotaie Ma lei è un criminale Se lo faccia dire Lei è veramente un mario wall Ecco Ok dunque Beh Signora pala Torni da me Dove cazzo è Non la trovo L'ho buttata Prima della salita Pala Ti vedo Vieni da papà Slurp Chi è che ha triggerato il coso Io Beh fai attento Cosa? Niente Folle matto Pazzo Furibondo Oh no Il kobit mi ha preso È andato Il kobit Ti è preso? Il kobit Bravo bravo Prendi in giro le persone Che sono malate davvero Di kobit Trasformazione in corso Stai facendo tornare una persona per nene? Sì Basta persone false Allora Diamo un boco Ah Tutto a posto Ok Cretino Eh Se ne va d'altrove a fare i suoi giochi da Da infante Niente Non ha funzionato ragazzi Cosa hai provato a fare? Nulla No no adesso voglio sapere Non esiste nulla No volevo fare Sneaky sneaky Bicchiarti e scappare Però non ha funzionato Ah Ti aiuterò a rompere tutto qua Molto gentile grazie Sti cazzo di moretti sono fastidiosissimi Quando vuoi costruire comunque È vero Comunque adesso Per come lo stiamo facendo Sarà veramente un eco mostro Perché Tipo in questa collina Spunterà per metà fuori Il mattone Ah no non metterlo Lascia aperto così Che bello Dici questo lo lascio così aperto? Sì Secondo me sì No è solo il lato Solo il lato Cioè il sopra No lo ritappo No ma secondo me Dovevi lasciare Non lo so Cioè guarda Così fa proprio Bell eco mostro Giusto così Due Ecco così esatto Tipo qua Dove c'è la terra Copri Esatto Potresti mettere le scale di mattoni Negli angoli in alto Beh c'hai ragione Anche voi Ok Da un certo punto di vista Sia avete ragione ragazzi Non c'è niente da dire Ah Ah giusto signor Panic Lei quanto si fa pagare Per un ride programmato? Ma che Che business è questo? Eh? Ma che business è questo? Il ride programmato Non ho mai venduto Esatto Non ho mai venduto dei ride Ma lei deve aiutare Un suo compagno di Arcadia Ok Cos'è che dovevi fare? Che il 10 avrò una Una live molto particolare Un progetto con te Un progetto con te Regalo dei materiali inutili Ah 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 Tieni Non t'azzardare No no me ne va Me ne vado Mi allontano io Non mi parli Ah beh niente E ti chiudo anche Ecco Nooo Eh ma lei è veramente un burlone Hai visto? Mi hai fatto il Frank È un Frank Permesso Strunzo Madonna non si permetta mai più Ah Scappo Ho preso te e non il carro Sono diventato un unicorno Il gigante carro Il gigante unicorno Sono diventato Il famoso gigante Grazie mille Link Kaito Per il Prime Benvenuto Rikisù Per il Prime Galatz 25 mesi Eccoci qua Stavo già ringraziato Galatz Ma te lo meriti Metti i blocchi nella seconda mano Così spacchi e costruisci più veloce Giusto Ah pensavo che già lo faccia Minchia Bertra è a questo livello Eh no io c'ho la torcia C'ho le shader Diventa buio poi Che pietà signor Bertra Che pietà La pietas Che pietà Che pietanza Ora ho fame Veramente un mariuolo Da affamarmi Inche qua dovremmo fare Tutto di mattoni Però verrà bello Ciao fieric ora che sono riuscito A rabbare il prime a mio zio Sono riuscito a farti il prime fieric poveri Uno fieric Bravo Pico bentornato Grazie mille carissimo Dei due mesi Utilizzare termini più favori Ottimo ottimo Bravo ragazzo Rubate il prime dalla famiglia Usatelo su questo canale Tanto è gratis Non si spende nulla No non sono molto furbo Non sei furbo No no Bertra non è furbo ragazzi Perché sono incredibilmente brillante Ok abbiamo ufficialmente finito con La strada qua Ci siamo arrivati anche a casa di poldo E basta Eh siamo arrivati C'è lo spiazzo enorme lì Della stazione che vuol fare Leo Il punto è che dopo dovremmo continuare Però dovremmo sentirci anche con gli altri E Leo per capire dove esattamente Quindi purtroppo per ora La situa è un po' quella che è Vabbè La toccherà aspettare La toccherà abbellire e fare altro Allora Bertra c'è una cosa che dobbiamo fare E qual è questa cosa che dobbiamo fare? Portare a casa il villager No Dai andiamo Su via Ah poi devo creare il vero Devo creare il nuovo Il nuovo spiazzo per Nuova impalcatura Devo creare Perché adesso i villager sono letteralmente lontanissimi Cioè la casa dei villager si è lontanissima Da dove Sì sì Insomma hai capito Dall'ascensore Sì Lavoreremo a quello allora Sto arrivando Sei pronto? Mi dovrei aiutare Dove sei tu? Tu il carrello ce l'hai giusto? Sì sì Ok ho il carrello per il villager Va bene va bene Sto arrivando Perfetto Io ho quasi finito questa Questa robaccia qua Infernale Minchia Secondo me sono tipo Arriviamo alla fine che Tipo la corsa è di dieci minuti Sì Sarà troppo lunga Ma io mi divertivo così Quando ho scoperto Minecraft Alla prima volta Ce l'ho solo sta roba qua in creativa Non si può neanche ci fosse la sopravvivenza In creativa ce l'ho soltanto Sta roba qua Eccomi Dobbiamo andare giù Bertra Bertra dai Ecco vai vai E me devo finire qua la mattonanza Dai vieni Andiamo Andiamo No E vabbè La finiremo un'altra volta La finiremo un'altra volta Vada mattonino Prima che ammazzino il villager Il nostro importantissimo villager Andiamo Vediamo se riesco a fare American Sniper anche oggi Ah Sono lontanissimo Addio Addio E sono stato fottuto dalla fermata Ah no aspetta Ma è lì che dobbiamo Non mi ricordo Ah no è lì dove sei te Stai lì Stai lì Ma come sto qui È lì sotto il villager Mi sa Dove cazzo è Andiamo Bertra Andiamo Ma lei mi sta Mi sta menzognando Ecco Corriti Ah Easy Grazie per avermi intercettato Dov'è lo zombie Qua sotto Ah cazzo Mi sono dimenticato Vabbè lo possiamo atterrare con il lavoro In qualche modo Allora Sì Io non c'ho i pistoni Quindi l'unica è Atterrarlo su con il lavoro Hai qualche Un qualche blocco Con cui puoi lavorare Vabbè che si fanno Tipo le fornace C'è il tagliapietre Ok C'erai il tagliapietre qua con te No vado a prenderlo Però è vicino Vabbè ma fai anche Non so se la vuole con le fornaci normali Non me lo ricordo No con le fornaci normali no Però si può fare il flashing table Ok Eh ma non ho Il flexing table Ok Vado a prendere il tagliacazzi Ci metto meno Corro fortissimo Fino al tagliacazzi Che è qua Eh allora Ok lo tireremo su con il lavoro Eh già Eh già Loro si chiamano lavorare Eh Proprio come Bertra Eh Dico proprio come Bertra Beh Anche Bertra ama lavorare Finché mi ci pago l'affitto Sì Ci vediamo a un prossimo video Allora Andiamo Andiamo Corri mio piccolo mini pony Presto Presto Che bello lo stonecutter che si muove Ti fermo io Ehi No Gli scheletri Aiuto Ma dove Dov'è lo scheletro Madonna Dormite Ma siamo noi Noi due franzo No che non dormite Vai su Ok ok Calma Perfetto Ah mi hai lanciato di sotto Ah mo c'ha un lavoro Incredibile Adesso non ce l'ha più Vai vai Lavora Vai Bravissimo Ma che bravo Salta e su Bravo Che problemi c'ha Uccidi lo zombie Presto Perché non viene su Sto stronzo Mi sa che è un po' di Di problemi cognitivi Il fra Ma che cazzo Dai bro Ma vai su Ma E se proprio Completamente bloccato Sto tizio No Dove va No È tornato in acqua Ma come è tornato in acqua Secondo me vuole dormire Per quello La barca La barca Dove cazzo è Ce l'ho io Arrivo È vero Non dormi Beh Qualcuno Chiamo a franzo Si può dormire Bloccalo Bloccalo Vai nella barca Vuole andare a letto Perché È notte Eh Sì Però Niente Non abbiamo un letto Stai attento No Non rompergliela Tanto Non possiamo far nulla Franzo ha quittato Ma Piuttosto che dormire Ha detto Piuttosto che dormire Va bene Che vi dico Vaffanculo Ok Niente Franzo ci ha traditi Eh che non do Non lavora di notte Eh Bertra Sarebbe un letto Qua No non mi dire Ste cose Allora Vado a casa Vado a casa Possiamo andare Dormiamo a casa Dei mates Tanto è qua Ci avranno un letto Vado io in missione Nella prima casa Che trovo Ma è qua C'è la casa Dei mates Eh ma è lontana Invece sulla ferrovia C'è la casa Tipo di Di eme Va bene Veloce Veloce Io proteggo il villager Protect The villager Presto Lo proteggo Lo proteggo Nessuno Lo attaccherà C'è Sergio A proteggerlo Un sol corpo Un sol spirito Un solo signore Presto Ed è solento Sud sierrale Grazie del Prime Benvenuto Sto minecart È lentissimo Presto Presto C'è casa di Tano È vero Andiamo a casa di Tano No lo zombie Vai via Strunzo Picchialo Picchialo Ecco Corro Un Dos Tres Quattro Presto Eh mi sto muovendo Cristina Non è casa di Tano Scusa Lì davanti Casa di Tano Ci sono Ci sto entrando Entraci C'è un letto Il ragno Sto dormendo Sto dormendo Oh sì Oh sì Perfetto Perfetto Scusa Tano Ti abbiamo Ho dormito nel tuo letto Ci ho anche sbunrato dentro Cazzo Questo è un bel problema Eh lo so Dov'è il tagliapepep L'hai preso Non ci credi Tornare qua Ce l'ho io Sì Presto Presto Poi devo anche Staccare Presto Sto arrivando Fortissimo E se riesco a farlo Arrivare Qua sopra Forse nemmeno Serve il tagliapietre Dai Fratm Vieni qua No, niente Non riesco a capire cosa voglia fare Sto tizio Vieni su Ti vedo What? Ah, sto arrivando Ce l'ho quasi fatta Arrivo con un tagliapietro Resto qua, qua Oh, no Niente Guardi cos'ho per lei È un tagliapietre Guarda com'è interessato adesso Maronna che bello che è Ok, in barca, nel barcone No Deve stare qua sopra Signore, è qua Era venuto adesso Non sono riuscito a piazzarla perché c'era qualcuno davanti Ok Ok Pog Aspetta Ok Portiamolo giù così Hai tolto il tagliapietre? Sì, sì, ce l'ho in mano Sì Ok Allora Pianino vai Oh What? Oh Ok No, il carrello Anche il mio No Prendi il tuo carrello No, il mio è andato via Prendilo Ok, è tornato, è tornato Ok, vai Caccialo e noi andiamo dietro Via, via, via Ok Guardami quanto orgoglioso Il prete Oh Adesso prendo il tipo Ecco qua Guarda come torna a casa Siamo bravissimi Siamo bravissimi Adesso lo rispingiamo Che si ferma Eee Forse qua sotto basta la spinta che gli dai tu Bonk, esatto Sì Ciao Bertra La spingo io, signor Fieri Ciao Ti escono i piedi dal kart Oddio Ah È molto No Si è bloccato Si è bloccato Aspetta che adesso lo spingo Eh No Mi va bene Niente No Lo picchi Scusami Eh ma sei un criminale Eh la spada che c'ha il danno ad aria Non mi vorrà più bene Non mi farà più gli sconti Vabbè Niente Oh scusate si è bloccato Eccomi Stai attento Ok Non con la spada No Non con la No Ok Allora Calma Ci siamo Che sbatti il minecart Eh La cosa brutta Bertra Che dobbiamo fare La struttura che abbiamo fatto là Dobbiamo farla di qua Altrimenti è un casino Qua c'è l'entrata Se non sbaglio Per la casa dei villagers Oppure non è ancora stata fatta Però va fatta di qua Quindi devo un attimo Riprendere La roba Ah Allora niente Arrivo subito Arriva 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 Arrivo Arrivi Io pure che ce l'abbia con me Perché gli ho tirato Una spadata Però Dici che secondo te Se l'è presa È un po' simile Temo che un pochino Se la sia presa Ragazzi come faccio Oggi solo 13.000 Contagiati Su 300.000 Tamponi Finalmente Porca troia Ragazzi come faccio In caso In caso di salzare trezzi Perché l'ho picchiato A fargli riabbassare Lo rizombifichi E lo fai Ripurare Si può fare anche così Effettivamente Allora Metto via tutte le rotaie Qua Non ti ho evocato Riva Non ho fatto nulla Giuro Ok Tieni Bert Ti regalo questo Madonna che spavento Non farlo mai più Ma Ma come che spavento Ma abbiamo un miliardo di secchie Ma che cazzo Un miliardo di secchie Puoi dare un pugno a Bertra Io intanto ti porto Il villager Fino a lì Grazie Stefano Me li ho tirati tantissimo Poi se la prende Povero Bertra Povero Bertra Andiamo villager Allora Andiamo bomber Bomber Vieni qua Poi glielo terrò Bomber incredibile Sei un fenomeno Bravissimo Sei veramente fenomenale Cazzo Ah le leve Ok Prendo leve e pistone Ci sono Ehm Quale albero è Quello con l'entrata L'albero con l'entrata Adesso te lo dico subito Da qua sopra Aspetta Devo prendere anche No Va bene Gacobus È arrivato il signor Polodo Alla buona ora Eccomi Allora Ah eccoci qua Io l'ho portato qua Ok Dovrebbe essere questo Ha detto Leo Allora un attimo Sto completamente Per il Mi vedi Bertra Sono fuori Bertra vai qua nel fiume Qua nel fiume davanti Nel fiume Ok ok Non ti vedo comunque Vai nel fiume Guarda sopra Eccomi Qua Va bene Strunzo Non lanciare frecce Che poi becchi villager Ok quindi L'altezza è qua Vabbè Allora lo porto giù Il fratmo Allora In che difficoltà È il server Non ho ancora capito Normale C'è scritto normale qua Però Ma che ca... Ah Non capito da dove fosse arrivata Quest'acqua di merda Minchia quanto ci mette a scendere St'acqua del cazzo Vai Cos'è sto ingorgo Che hai fatto qua Quale ingorgo? Guarda qui l'acqua Che cazzo hai fatto? Non l'ho fatto io L'hai fatto tu Con quella merdata di roba Ma secondo te Perché c'hai È incredibile Bertra Non ho rotto niente Non ho fatto niente Ecco Lo giuro Lo giuro Non è sempre fixare tutto Ecco fatto Ci vuole tanto Allora Doveva essere più o meno qua Dunque Sei tu L'ho studiato Vai E mi fido di te Allora un attimo Qua dobbiamo farci Poi ovviamente Lo fixerò meglio Per conto mio Però per adesso Vediamo cosa si può fare Qua ci andrà L'acqua Guarda Bertra Così impari qualcosina No no Non voglio imparare Che schifo Mamma mia Ma cazzo ti permetti? E qua ci va La lava La lava Ecco Signor Bertra Prego Puoi andare sopra il blocco No non ci vado Vai sul blocco Quello di lava Ok mi butto sul blocco di lava Ma tanto non brucia la barca No aspetta su quale blocco devo andare Su questo Ci sei? Ah Tirami su Tirami su Ops Cos'è andato storto? Bertra Cos'è successo? Non lo so Ha già preso fuoco Au Normale che sei andato a fuoco tu Tu non il villager Sì sì Ah che cazzo Bertra ha preso fuoco Signora maestra Siedi mi fa gli scherzi Ecco qua Ecco qua Allora Sei arrivato qua Oh ciao Nova Hello Che voto daresti al mio pipo? 11 ragazzi Allora Che bello Quello shader Sì Un attimo che devo Devo fare Che qua non ho ancora sistemato Nulla Vabbè la lava Ce la metto dopo Adesso vado Vado a manoni Vai a manoni Prego Grazie Aspetta che mi rassetto Sei attento E infatti me ne sto Vai Sono clean Vai Bello sbratto signor Panic Quanto manca? Tre blocchi Tre adesso Sì Due Uno Eccoci Basta Sì è entrato Ottimo È tutto dentro È tutto dentro È tutto dentro Signori Un applauso A ciò che è dentro Ed è diventato Un weaponsmith Adesso vediamo Cosa fare Ah buono Oddio ci potrebbe essere No aspetta Weaponsmith No 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 Ci serve il fletcher Mi sa Io dovrei rimettere il vetro Ma non ho il vetro Per tappare No vabbè ma Dobbiamo lasciare l'entrata Qua tranquillo Dov'è scappato Dov'è È ancora nella barca Ah no Ok mi dà uno smerato Ok non sono degli ottimi sconti Va bene Va bene lo stesso Ma scusa ma Quindi lasciamo La finestra aperta Non si lanciano di sotto Perché sono stupidi No non si lanciano di sotto Ma poi faremo Cioè farò tutta l'entrata a modo Per adesso Si fa quel che si può Allora Bertra E Lo dobbiamo trasformare in qualcos'altro Però io voglio il flashing table Adesso lo faccio Ah gli serve anche un letto I fantastici legnetti Esatto Ci servono Un po' di smeraldi Da fare un attimo Allora No non si chiama Vabbè Impennatura si chiama in italiano E serve La flint Ok Ma ce ne abbiamo Ne abbiamo di flint In teoria si Sì Sì Qua c'è della pietra Che è appena cotta Sei felice? Guarda Sono commosso Guarda che bello Ciro sul suo computer Da gaming Chissà dov'è la flint Abbiamo fatto anche Gennà Da quando? Vabbè Ci penso io alla flint Adesso Gennà non lo so Onestamente Comunque non c'è Ciro Non lo vedo Ciro Che ne so io Ciruz c'era Non c'è C'è solo Gennà Adesso Ah no Eccolo qua Ciruzzo Mamma mia Il master Ciruzzo Il mio prefe Ragazzi Un applauso Per Ciruzzo Che è Ugambione Aspetta Ad apprendere Della flint Ah lui è il signor S Invece Vedo che Leo Si è dato da fare Bravo Leo Che mattacchione Che è Leo È proprio Un gran furbo Arrivo Giovanni Esposito But everybody Calls me Ciruzzo Sto arrivando Bertra Esiste Dormi 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 Vado a dormire Dormi Ah non mi picchi Presto Dovmo Dovmo Ok Ha già fatto Lo dormi Eh ma mo Gli dobbiamo Dobbiamo togliere Il lavoro Allora Lui Ha preso L'armaiolo Ma io da cosa l'ho preso Mi sa da questo qua Ah no Mi sa dal Da questo Fammi vedere No No Rompiamo tutto È dal quello Da questo È la madonna È tutti Niente Aspetta Aspetta che Sennò rischio di picchiarli Ok Allora Ok Perfetto Ok È effettivamente Un trade brutto Per me Perché L'ho picchiato Prima Eh sei veramente Un criminale Spostati che guardo Cosa da me Dovrebbe essere 32 stick No È 64 stick Mi dà uno smeraldo Ma va a fanculo What Ma che cazzo Madonna Ma questo lo lancio Di sotto Tu non hai capito Niente Mi sa Sto ciruz Lo schianto di sotto Come mai così tanto Ragazzi Non è normale Questo Forse perché Dobbiamo farlo livellare Cioè ok Che io l'ho L'ho picchiato Però Bertrand Dovrebbe essere Cioè Dovrebbe essere Influente Poi esagerare Rompi Piazza Eh ma mo Si attira con altro Qua Eh che deve andare Ok Ok No Questo non sarebbe Un cazzo Aspetta Ok Fa schifo No Eh mo Si attira No Mo è attirato Da qualsiasi cosa Eh è diventato Un farmer Per 50 biete Ci dà uno Smeraldo Cosa Vabbè Non è normale Non sono normali Sti trade Non sono normali Sti trade Possiamo anche Buttarlo Sto tizio qua Vabbè Tienilo Fa presenza Hai ragione Sì No è inutile Allora Inutile Ilbert Ciruzzo Da gaming Io mi metto qua Guarda quanto sono bravo Che gioco Al Ciruz Party Niente No lo lascio così Ragazzi È inutile Cioè se li ammazzo Disco soltanto Di far aumentare Il prezzo Degli altri Degli altri Mamma mia Che poveracci Niente abbiamo perso Un sacco di tempo Per niente Berta Sei felice Io ti saluto Comunque Va bene Berta Invece continuo Un altro po' Va bene Allora ti lascio Ti faccio Un ride Da sorpresa Ma non stupirti Troppo Ok Non dirmelo Però Ok Non te lo dico Silenzio Silenzio Bella comunque Buona Bella Ciao 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 Ragazzi Mi raccomando Noi non lo sappiamo Che Bertha Si sta facendo Un ride Allora Quello che voglio fare Io Prima di andare È molto semplice Voglio fare in modo Di creare un ascensore Anche qua Come quello che abbiamo fatto Nell'altro punto Ok Potrebbe partire da qui Sarebbe un'ottima idea No ma Bertha C'era i dati Grazie Bertha Non me lo aspettavo Come stai Comandata la live Grazie mille Grazie mille Allora Perfetto ragazzi Perfetto Qua ci andranno Le gabbie Le faccio Al volo Le gabbie Grazie Bertha Non lo sapevamo Assolutamente Oh Jesus Che cazzo Combinato Che 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 so Pesa Cosa cazzo Ho fatto Ecco qua Dunque Buonasera Fieric Come prosegue L'autostrada Prosegue Prosegue Grazie Danic Sele Bentornato Fratm Tutto bene Tutto bene Adesso sto facendo Adesso sto facendo Altra roba Ok Grazie Adesso sto facendo L'ascensore Sto facendo L'ascensore Qua Ecco fatto Qua ci andrà Ovviamente Il pistone Il pistronzo Minchia Perfetto Cioè Meglio di così Non poteva veramente andare Easy Ecco qua Visto Che bello L'ideale Sarebbe mettere Due leve qua Adesso vediamo Come fare Ma qua sono Sti ascensori Con l'acqua Io non capisco Ragazzi Guardate Così va Benissimo Torno su un attimo Però aspettate Cioè i villager Soffocano Con l'acqua Quello con la soul sand E quindi il concetto Sarebbe andarci Cioè Entrare con la barca Dentro a Un involucro di acqua Con il villager E volare su Secondo voi Quanti Quanti ne sopravvivono Se facciamo una roba del genere Non mica possono prendere danno Cioè Che senso ha Non lo so Per me è un suicidio E basta Per me è un suicidio E basta Di spingere Nell'acqua No Rischiosissimo Secondo me Facciamo una roba Alla volta Per esempio Tanto quest'oro Non ci serve a niente La stanza Poi Servono gli observer Ce la Dovremmo avere Da qualche parte Il quarzo Le spingere Sì ok Ma Non lo so Non mi da le stesse emozioni Ragazzi Non so come spiegarvelo Non mi da le stesse emozioni Oh qua Che cazzo Ma ce l'abbiamo Il qua Ah ma sarà qua Il quarzo Di logica Non dimmi che abbiamo Solo blocchi I blocchi non si possono Oh jesus Abbiamo solo blocchi No ma ce n'era Dell'altro Di quarzo Da qualche parte L'avevo visto Va Niente Ah qua Dieci Oddio quanti Ok se ne possono fare Oddio Potrebbe andar bene Dai Ho messo Accetto a posto Oh cazzo Grazie per me l'ho detto Non me ne avevo reso conto Vabbè L'abbiamo trovato L'abbiamo trovato Adesso vi faccio vedere Qual è la mia idea Io non capisco Perché faccia così Ogni tanto Allora Dunque Abbiamo la redstone Oh che cazzo è stato Scusate Scusate Allora qua dove dovrebbe arrivare Oddio E questo è un bel problema Qua dovrebbe arrivare il segnale Tipo qui No No Ah dovrebbe arrivare sopra No No così ok Perfetto Ok perfetto Ok E questo è il limite Ora Dobbiamo far sì Che da qui Se arrivi qua sopra Con il segnale di redstone Oddio ho paura che sia troppo in basso Sapete Ho paura che sia troppo in basso Quanti blocchi sono da qui Aspettate Qui siamo a 61 D'altezza No 3 sono troppie Quindi massimo 24 Riusciamo a fare Da 61 Si arriverà a 85 No È troppo Ai 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 Farne 3 Mi sembra un po' esagerato Raga ma che cazzo I primi ci avete Farite No non Valerio Ho bannato Valerio Scusa Valerio Eccoti Vabbè Valerio è stato un martire Valerio è stato un martire Allora Ma ci sono un moderatore in chat? Ah questo è il limite Il problema È che è troppo in alto questa casa Ah c'è MZ Perfetto MZ pensaci tu È andato a bere Cioè è incredibile Proprio nel momento in cui Sarebbe i moderatori Vanno a bere O fanno altro Com'è possibile? Mi chiedo io Mi sa che ne serviranno 3 Questo potrebbe essere un problema Allora Ok Qua ci sarà questo pezzo qui Siamo volati giù Perfetto Siamo Iepoldo nel server What a multiplayer Ok Adesso Bisogna trovare il modo Di trasferire il segnale Qua sopra È fattibile È fattibile ragazzi Allora Noi tiriamo questa leva Quindi il segnale Lo prende qua Se non sbaglio No Così non so se lo passa Dovrebbe essere il contrario L'observer Vero? Una torcia Sopra l'altra Ma così si disattivano Aspetta Come cazzo Se Blocco torcia Blocco torcia Così facile Per trasmettere il segnale in alto Davvero? Non lo so Non mi convince Proviamo Proviamo un po' Va bene Va bene Per quale motivo Vabbè Ah Aspetta Così Così No Ma andava bene Come cazzo funziona? Sotto il resto Nel server L'observer E anche secondo me Andava così Aspettate ragazzi Io pensavo Che funzionasse Una roba Del genere Del tipo che Qua ci metti La redstone Magari ci metto Un attimo Un blocco Aspettate Blocco Questa torcia Questa torcia qua La metto qui E così porta sul segnale No? Così dovrebbe andare sul segnale Se non sbaglio No Non sembra Al contrario L'observer Ma come? Ah Così E qua Sopra cosa ci devo mettere Così Sopra cosa ci devo mettere Redstone 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 Non mi sembra Che stia funzionando Tira la leva Ah Aspettate che C'è un disturbatore qua Ok Ah Ok Va bene Ello Grazie mille Dell'host Caro Benvenuti ragazzi Mi serve un altro Un attimo Altre La ruspa Sì Molto importante Questo momento Vado un attimo A farmi altri Ponteggi Ragazzi Ok Vado a farmi altri Ponteggi Dormo Che evidentemente A poldo Non interessa Ok Fattiva Ma è basta che Il segnale vada Anche una volta sola Tanto Semplicemente Il pistone deve spingere Basta Questo è quanto Deve solo spingere Il pistone ragazzi Il tic è brevissimo Faccio Io voglio Semplicemente Che vada sul segnale In un modo Dell'altro Non mi sembra Di chiedere tanto Boh Magari mi studierò Off stream Un po' come fare Però Quando in fronte Viene un cambiamento Del blocco Ah capito Nate Ah e Va bene Però dovrebbe funzionare Comunque In teoria Dovrebbe funzionare Comunque così Non ho fatto Le altre impalcature Vado a farle In teoria Va Adesso proviamo Fai l'entrata Più bella Quello È L'ultimo Dei problemi Se tanto Non funziona Ah Quanta strada Ok Quanta strada Che bisogna fare Qua avanti indietro Però che noia Che non c'è nessuno Nel server No Io non ci capisco nulla In sta casa Ha fatto tutto Lei Non ci sono abituato Non sono abituato Girarci È un inizio Va bene Ritorniamo A che punto Siamo Lontano Ok Allora Vediamo un po' Come fare Così va su Quindi devo Mettercene Un altro Come sono cadute Queste torce Questo non lo sapevo Questo mi è nuovo Ok Vediamo un po' Se riusciamo a far arrivare Il segnale Quindi In teoria Facendo così Il segnale Arriva Dico bene Ok Perfetto Visto Visto Questo Questo mi interessava fare Questo mi interessava fare Ok Vado a prendere Altra lava Funziona Funziona ragazzi Ho pagato soldi Per l'abbonamento Costa troppo Cosa vuol dire Davide Non ho capito Cioè Costa troppo Perché ti sei abbonato Scusami Ok Lava Lava qua Lord scherzo Va bene Ottimo scherzo Quartieri spagnoli Ok E andiamo E voilà Adesso Prendiamo questo Iniziamo a fare La seconda costruzione Allora qua Ci andrà L'acqua Un po' più in basso Ok No Forse è meglio Metterci la lava qua Effettivamente Beh lava Acqua Ma vediamo come fare Tanto sarà Abbastanza semplice Magari brutto Ma semplice Hashtag Funzionalità Stare di Tram Ma c'è Ah Mi frenco Ok Ok Così Così E qua Ci dobbiamo mettere Non so se l'acqua Ok No scherzavo Così Perfetto Qua È partito questo Quindi la lava Dovrebbe stare Oddio non ho più materiali Vabbè Qua comunque ci sarà La lava Ho usato Troppi materiali Adesso lo faccio Un po' al volo Poi ragazzi Lo miglioro un'altra volta Perché Anche io purtroppo Devo andare Ok Quindi Andiamo su Un modo Semplicissimo Per fare l'ascensore Sicuramente Sicuramente Sono metodi più semplici Del mio Ma almeno il mio L'ho inventato io Quindi Sono abbastanza Orgoglioso di ciò Che è una cosa Che molti su minecraft Non provano Perché copiano tutto E adesso Vediamo un po' Se funziona Che meraviglia ragazzi Non è una frecciativa A nessuno ragazzi È una cosa generica Che ho detto Ok Perfetto Questo è il limite Cioè è la verità La maggior parte è Come Cercano su mine Come fare questo Come fare quello Io ragazzi Cioè è ovvio Che anche io ho preso Spunti O alcune cose Le ho copiate Anche posso inventarmi tutto Però Questa cosa qua Mi è venuta in mente Da solo Letteramente Cioè il pistone Spinge i blocchi Io ci metto un blocco dentro Tiro la leva E basta Quindi dico È un ottimo ascensore Se li porti su Che ne so Degli animali O qualsiasi mob Tu lo porti su così Sono dei metodi migliori Sicuramente Questo però Intanto L'ho inventato io Magari Non dico che l'ho inventato Primo al mondo Dico che però Non ho guardato da nessuno Per imparare a fare questa cosa E tuttora sto sperimentando Qua davanti a voi Piuttosto che andare a fare How to Craft E lift Cazzo ne so Come fare l'ascensore Su minecraft Vedete Così con le leve Questa spinge questa Quella spinge quell'altra Peccato che troppo in alto Da casa Ok Non credo vada bene Per ciò che devi fare Si attiveranno Sì il primo Che il secondo Ah sì A me non sembro Innanzitamente Troppo basso Sì perché i pistoni Spingono massimo 12 blocchi E due Sono 24 Purtroppo ne sarebbero Tipo 28 Quindi sarebbe un terzo pistone Adesso La prossima volta Vedrò come fare Ragazzi Dai Amici Ci becchiamo Questa sera Sesh ed Egon Grazie mille del Prime Non te l'ho visto Ho vista Grazie mille Grazie mille